Giocare col fuoco. Un racconto di Arthur Conan Doyle. Legge Rosanna Lia. Non posso pretendere di riuscire a dire quello che accadde il giorno 14 dell'aprile scorso al numero 17 di Butterly Gardens. Scritta nero su bianco la mia ipotesi potrebbe sembrare troppo grossolana e grottesca per essere presa seriamente in considerazione. Eppure che qualcosa accadde, che era di una natura tale che lascerà il suo segno su ciascuno di noi per il resto della vita, è un fatto certo, come possono affermare unanimamente cinque testimoni. Non mi lancerò in alcuna ipotesi o polemica. Darò solo un resoconto chiaro che sarà sottoposto all'esame di John Moir, Harvey Deacon e della signora Della, che non verrà pubblicato a meno che essi non siano disposti ad avallarne ogni particolare. Non sono in grado di ottenere l'approvazione di Paul e Duke, perché sembra abbia lasciato il paese. Fu John Moir, il noto socio più anziano dello studio Moir, Moir & Sanderson, che in origine attirò la nostra attenzione sulle scienze occulte. Egli aveva, come molti uomini d'affari duri e pratici, un lato mistico del proprio carattere che l'aveva condotto ad esaminare e infine ad accettare quei fenomeni elusivi che sono raggruppati insieme a molte follie e a molti imbrogli, sotto il nome generale di spiritismo. Le sue ricerche, che erano cominciate con curiosità e intelligenza, erano finite miseramente nel dogma, e lui era diventato convinto e fanatico come un qualsiasi altro bigotto. Rappresentava nel nostro gruppetto quella massa di uomini che hanno trasformato questi singolari fenomeni in una nuova religione. La signora Delamer, la nostra medium, era sua sorella e moglie di Delamer, lo scultore emergente. La nostra esperienza ci aveva mostrato che lavorare in questo campo senza un medium era futile come lo è per un astronomo osservare le stelle senza un telescopio. D'altra parte, lavorare con un medium stipendiato ci ripugnava. Non era ovvio che lei oppure lui si sarebbero sentiti costretti a darci qualche risultato in cambio dei soldi ricevuti e che la tentazione di imbrogliare sarebbe stata irresistibile? Non ci si può fidare di nessun fenomeno che sia stato prodotto ad una ghinea allora. Ma fortunatamente Moir aveva scoperto che sua sorella era una sensitiva. In altre parole, era una batteria di energia magnetica animale che è l'unica forma di energia ad essere tanto sottile da funzionare sia sul piano spirituale che su quello materiale. Naturalmente, quando dico questo, non voglio dare niente per scontato, ma espongo solo le teorie con le quali noi spiegavamo giustamente o erroneamente ciò che vedevamo. La signora Delamer partecipò alle nostre riunioni senza l'approvazione di suo marito. Benché non avesse mandato prova di grande forza psichica, riuscimmo alla fine ad ottenere quei fenomeni usuali di comunicazione mediante colpi battuti sul tavolino che sono, nello stesso tempo, tanto puerili e tanto inspiegabili. Ogni domenica sera ci incontravamo nello studio di Harvey Deacon in Budderley Gardens, nella casa che si trova subito dopo l'incrocio con Merton Park Road. La creatività mostrata da Harvey Deacon nell'arte avrebbe portato chiunque a credere che egli fosse un ardente appassionato di ogni cosa strana e sensazionale. Proprio l'aspetto pittoresco nello studio dell'occulto era stata la qualità che in principio lo aveva attratto, ma la sua attenzione fu ben presto attirata da qualcuno di quei fenomeni cui ho accennato. Arrivò rapidamente alla conclusione che quello che aveva giudicato come un'avventura divertente e come un passatempo serale fosse una realtà formidabile. Era un uomo dalla mente lucida e logica, un vero discendente del suo antenato, il noto professore scozzese, e rappresentava nel nostro piccolo circolo l'elemento critico, l'uomo che senza pregiudizi è pronto a seguire i fatti fin dove li vede e che si rifiuta di teorizzare prima di avere i propri dati. La sua prudenza infastidiva Moir, così come la fede robusta di quest'ultimo divertiva Deacon, ma ciascuno a suo modo era ugualmente affascinato dalla materia. E io? Che cosa rappresentavo? Non ero un critico scientifico. Forse la cosa migliore che posso affermare riguardo a me stesso è che ero un uomo di mondo, ansioso di partecipare ad ogni movimento nuovo, grato di ogni sensazione insolita che potesse farmi uscire da me stesso, aprendomi a nuove possibilità di esistenza. Io non sono un entusiasta, ma mi piace la compagnia di quelli che lo sono. Il discorso di Moir, che mi diede l'impressione che avessimo un passepartout privato per la porta della morte, mi riempì di un vago senso di soddisfazione. L'atmosfera rilassante della seduta a luci oscurate era deliziosa per me. Insomma, la cosa mi divertiva e per questo vi presi parte. Fu, come ho già detto, il 14 dell'aprile scorso che accadde il singolare avvenimento di cui mi accingo a parlare. Fui il primo ad arrivare allo studio, ma la signora Delamer era già lì e stava prendendo il tè con la signora Deacon. Le due donne e lo stesso Deacon erano in piedi di fronte ad un quadro incompleto posto su di un cavalletto. Non sono un esperto d'arte e non ho mai dichiarato di capire quello che Deacon vuole dire con i suoi quadri, ma in quel caso vedi che il dipinto era pieno di immagini, ritraeva fate, animali e figure allegoriche di ogni genere. Le signore erano prodiche di elogi e in realtà l'effetto coloristico era notevole. Che cosa ne pensi, Markham? chiese. Ebbene, è più grande di me, dissi. Queste bestie che cosa sono? Mostri mitici, creature immaginarie, emblemi araldici, una sorta di processione magica e bizzarra. E alla testa della processione c'è un cavallo bianco. Non è un cavallo, disse stiziosamente, il che era sorprendente perché di solito era una persona dallo spiccato senso dell'umorismo e astento prendeva sul serio se stesso. E che cos'è allora? Non vedi il corno che ha di fronte. È un unicorno. Ti ho detto che erano animali araldici. Non sai riconoscerli? Mi dispiace molto, Deacon, dissi, perché mi sembrava realmente adirato. Rise della propria irritazione. Scusami, Markham, risposi. La questione è che ho dovuto fare un lavoraccio per dipingere queste bestie. L'ho dipinto e ridipinto tutto il giorno cercando di immaginare che aspetto avrebbe un unicorno rampante, vivo e reale. Alla fine sono riuscito a dipingerlo come avevo sperato, perciò quando non sei riuscito a riconoscerlo mi ha dato fastidio. Ma naturalmente si capisce che è un unicorno, dissi, perché era chiaramente depresso della mia ottosità. Vedo il corno distintamente, ma non avevo mai visto un unicorno tranne che nello stemma reale, perciò non ci ho pensato. Questi altri sono basilischi, grifoni e una specie di dragoni. Sì, non ho avuto difficoltà a dipingerli, è solo l'unicorno che mi ha fatto impazzire. Comunque fino a domani mattina non voglio più pensarci. Girò quindi il quadro sul cavalletto e chiacchierammo di altri argomenti. Moir era in ritardo quella sera, e quando infine arrivò portò con sé, con nostra grande sorpresa, un francese basso e tozzo che ci presentò come Monsieur Paul Leduc. Ho detto che qualsiasi intrusione nel nostro circolo avrebbe turbato le condizioni e introdotto un elemento di sospetto. Sapevamo di poterci fidare l'uno dell'altro, ma tutti i nostri risultati sarebbero stati viziati dalla presenza di un estraneo. Monsieur Paul Leduc era un famoso studioso di occultismo, un veggente, un medium e un mistico. Era arrivato in Inghilterra con una lettera di presentazione per Moir scritta dal presidente della confraternita parigina dei Rosa Croce. Che cosa c'era di più naturale che condurlo alla nostra piccola seduta e che noi ci sentissimo onorati della sua presenza? Era, come ho già detto, ben rasato, notevole solo per i grandi occhi scuri e vellutati che fissavano con uno sguardo vago. Era ben vestito, aveva i modi di un gentiluomo e il suo strano inglese fece sorridere le due signore. La signora Deacon aveva dei pregiudizi nei confronti delle nostre ricerche e lasciò la stanza. Allora abbassammo le luci, come era nostro costume, e avvicinammo le sedie al tavolo quadrato di Mogano che si trovava al centro dello studio. La luce era fioca, ma sufficiente da permetterci di vedere distintamente il volto degli altri. Ricordo che riuscì perfino a notare le mani curiose, tozze e quadrate che il francese appoggiò sul tavolo. «Che cosa buffa?» disse. «Sono molti anni che faccio queste sedute e ancora mi diverte. La signora è una medium? Cadete in trance?» «Non posso fermarlo», disse la signora Delamer, «ma sono sempre cosciente di una sonnolenza estrema». «È il primo stadio, poi continuate, allora arriva il trance. Quando il trance arriva, allora il vostro spirito esce e subentra un altro spirito, e poi voi potete parlare o scrivere. Dovete lasciare che la vostra macchina sia guidata da un altro. Ehi, ma che cosa c'entrano gli unicorni?» Harvey Deacon sussultò sulla sedia. Il francese muoveva la testa lentamente e fissava tra le ombre che avvolgevano le pareti. «Che cosa buffa?» disse. «Sempre unicorni. Che sta pensando tanto intensamente ad un oggetto così bizarro?» «Ma è meraviglioso!» gridò Deacon. «Ho cercato di dipingerne uno tutto il giorno? Come fate a saperlo?» «C'avete pensato in questa stanza?» «Certamente!» «I pensieri sono cose, amico mio. Quando si immagina una cosa, si crea una cosa. Non lo sapevate? Ma io vedo i vostri unicorni perché non è solo con i miei occhi che vedo. Volete dire che posso creare una cosa che non è mai esistita semplicemente pensandola.» «Certamente. È il fatto che sottintende tutti gli altri. Perciò un pensiero cattivo è anche un pericolo.» «Questo è valido, suppongo, sul piano astrale.» chiese Moir. «Ah, queste sono parole, amico mio. I pensieri sono qui. Sono altrove. Sono dovunque.» «Non posso dirlo. Li vedo. Li tocco.» «Potete farceli vedere?» «Significa materializzarli. Ecco. È un esperimento, ma è necessaria l'energia. Vediamo quanta energia abbiamo e poi si vedrà che cosa possiamo fare. Posso farvi disporre in un altro modo?» «È evidente che ne sapete molto più di noi.» «Disse Harvey Dagon. Desidero che prendiate il controllo della situazione.» «È possibile che le condizioni non siano buone, ma cercheremo di capire che cosa possiamo fare. La signora resterà seduta dove. Io sarò al suo fianco e quel signore è accanto a me.» «Il signor Moir siederà accanto alla signora perché è bene alternare biondi e bruni.» «Ecco. È ora, con il vostro permesso, spegnerò tutte le luci.» «Che utilità ha il buio?» domandai. «La forza con cui abbiamo a che fare è una vibrazione dell'etere. Lo è anche la luce. Ognuno di noi ha i propri fili. Non è vero? Non avrete mica paura del buio, madame. Come buffa una seduta del genere.» Sulle prime il buio era pesto, ma dopo pochi minuti i nostri occhi si abituarono tanto che riuscivamo a scorgere gli altri, anche se oscuramente e vagamente. Non vedevo nient'altro nella stanza, salvo le nere sagome delle figure immobili. Tutti noi prendevamo la faccenda molto più seriamente di quanto non avessimo mai fatto prima. «Mettete le mani sulla fronte. È inutile che ci tocchiamo, visto che siamo così pochi intorno ad un tavolo così grande. Voi vi concentrerete, madame, e se il sonno arriverà, non dovrete lottare. Ma ora stiamo in silenzio ad aspettare. Va bene?» Così restammo in silenzio ad aspettare, fissando l'oscurità che ci circondava. Un orologio ticchettava e un cane abbaiava a tratti, in lontananza. Una o due volte una vettura passò rumorosamente per la strada e la luce dei fari che trapelava tra le fessure delle tende era un'interruzione gradita in quell'attesa buia. Avvertivo quei sintomi fisici che le sedute precedenti mi avevano reso familiari. I piedi freddi, le mani tremanti, le palme calde e una sensazione di vento freddo sulla schiena. Avvertì anche degli strani dolori lancinanti negli avambracci. Mi parve soprattutto in quello sinistro che era il più vicino al nostro ospite. Era dovuto senza dubbio a qualche disturbo circolatorio, ma ciò nonostante era degno di nota. Contemporaneamente ero cosciente di un senso di aspettativa quasi doloroso. Dal silenzio rigido e assoluto dei miei compagni capì che i loro nervi erano in tensione come i miei. E poi, d'improvviso, un suono si levò dall'oscurità. Era un sibilo basso, il respiro leggero e veloce di una donna. Divenne ancora più leggero e veloce, come se penetrasse tra denti serrati per finire in un rantolo sonoro accompagnato da un fruscio soffocato di stoffa. «Che cos'è? Va tutto bene?» chiese qualcuno nel buio. «Sì, va tutto bene», disse il francese. «E la signora? È in trance. Ora, signori, se aspetterete in silenzio, vedrete qualcosa che penso vi interesserà molto». Si sentevano ancora il ticchettio e il respiro, ora più lento e più profondo della medium. Ancora si scorgeva il lampo occasionale più benvenuto che mai delle luci delle carrozze di passaggio. Quale abisso stavamo attraversando? Il velo sollevato sull'eternità su una sponda e le carrozze di Londra sull'altra? Il tavolo tremava come per una pulsazione potente. Oscillava decisamente, ritmicamente. Con un movimento lieve si alzava e si abbassava sotto le nostre dita. Colpi secchi e scricchioli si levavano dal legno, scoppiettì e crepiti, simili ai rumori di una fascina che brucia e crepita in una notte di gelo. «S'è molta energia», disse il francese. «Guardati sul tavolo». Avevo pensato che fosse una mia allucinazione, ma tutti la vedevano ora. Sulla superficie del tavolo c'era una luce fosforescente, grigio-giallastra, o piuttosto un vapore luminoso più che una luce. Roteava, si avvolgeva e ondeggiava in spire oscure e tremolanti, turbinando come una nuvola di fumo. Vedevo le mani bianche e quadrate del medium francese in quella luce funerea. «Che bello!» gridò. «È splendido!» «Chiamiamo l'alfabeto», chiese Moir. «Ma no! Possiamo fare di meglio!» disse il nostro ospite. «È una cosa rudimentale battere colpi sul tavolo per ogni lettera dell'alfabeto e con una medium come la signora? Potremmo fare di meglio!» «Sì, farete di meglio!» «Chi è? Chi ha parlato? Sei stato tu, Markham?» «No, non ho parlato.» «È la signora che ha parlato.» «Ma non era la sua voce.» «Siete voi, signora Delamer?» «Non è la medium, ma è l'energia che si serve degli organi della medium!» disse la voce strana, profonda. «Dov'è la signora Delamer? Non le farai del male, spero.» «La medium è felice in un altro piano dell'esistenza.» «Ha preso il mio posto, come io ho preso il suo.» «Che sei?» «Non vi importa chi sono. Sono uno che è vissuto come vivete voi e che è morto come voi morirete.» Udimmo il cigolio e lo stridio di una vettura che si fermava alla porta della casa accanto. Si sentì una discussione a proposito di una tariffa e poi i brontolii dell'autista risuonarono in strada. La nuvola giallo-verdastra turbinava ancora lieve al di sopra del tavolo. In qualche punto era più fioca, ma brillava di una luminosità tenebrosa verso l'alto, di fronte alla donna. Il mio cuore fu afferrato da un senso di paura e di gelo. Mi pareva che con leggerezza e superficialità ci fossimo accostati al più reale augusto dei sacramenti, quella comunione con i morti di cui hanno parlato i padri della chiesa. «Non pensate che siamo andati troppo oltre! Non dovremmo interrompere questa seduta!» gridai, ma gli altri erano tutti avidi di sapere come sarebbe finita. Risero dei miei scrupoli. «Tutte le facoltà sono fatte per essere usate!» disse Harvey Deacon. «Se possiamo fare questo, noi dobbiamo farlo!» Ogni nuovo orientamento della conoscenza è stato chiamato illecito al suo principio. «È giusto e corretto che indaghiamo la natura della morte!» «È giusto e corretto!» disse la voce. «Allora, che cosa possiamo chiederti?» gridò Moir che era sovraeccitato. «Dacci una prova! Ci darai la prova che sei realmente qui!» «Quale prova chiedete?» «Bene allora, ho qualche moneta in tasca! Mi dirai quante sono!» «Noi torniamo nella speranza di insegnare ad elevare e non per risolvere indovinelli infantili!» «Signor Moir, avete sbagliato questa volta!» gridò il francese. «Ma certamente quello che dice il controllo è sensato!» «È una religione, non un gioco!» disse la voce fredda e dura! «Esatto! È proprio come la vedo io!» gridò Moir. «Mi dispiace di avere fatto una domanda stupida! Non mi vuoi dire chi sei!» «Che cosa importa?» «È da molto che sei uno spirito!» «Sì!» «Da quando?» «Noi non concepiamo il tempo come voi! Le nostre condizioni sono diverse!» «Sei felice?» «Sì!» «Non desideri tornare a vivere?» «No, certamente no!» «Fai qualcosa?» «Non saremmo felici se non facessimo qualcosa!» «Che cosa fai?» «Ho detto che le condizioni sono completamente diverse!» «Ci puoi dare un'idea del tuo lavoro?» «Lavoriamo per migliorare noi stessi ed elevare gli altri!» «Sei contento di essere venuto qui stanotte?» «Sono felice di venire se posso fare del bene con la mia venuta!» «Allora fare del bene il tuo fine!» «È il fine di tutta la vita su ogni piano!» «Vedi, Markham, questo risponde ai tuoi scrupoli!» «Era vero perché i miei dubbi erano svaniti ed era rimasto solo l'interesse!» «Provi dolore nella tua vita?» domandai. «No! Il dolore del corpo!» «Provi un dolore mentale?» «Sì, si può essere sempre tristi e ansiosi!» «Come gli amici che hai conosciuto sulla Terra?» «Qualcuno di loro!» «Perché soltanto qualcuno di loro?» «Solo quelli che mi sono congeniali!» «I mariti incontrano le mogli?» «Solo quelli che si sono amati veramente!» «E gli altri?» «Non sono niente gli uni per gli altri!» «Deve esserci un legame spirituale?» «Naturalmente!» «Quello che stiamo facendo è giusto!» «Se è fatto nello spirito giusto!» «Qual è lo spirito sbagliato?» «La curiosità e la leggerezza!» «Ne può nascere un danno!» «Un danno molto grave!» «Che genere di danno?» «Potreste chiamare delle forze su cui non avete controllo!» «Forze del male!» «Forze non sviluppate!» «Dici che sono pericolose! Pericolose per il corpo oppure per la mente?» «Talvolta per entrambi!» Seguì una pausa e il buio sembrò divenire ancora più fitto mentre la nebbia giallo-verdastra turbinava e fumava sul tavolo!» «Vorresti fare qualche domanda, Moir?» chiese Harvey Deacon. «Solo questa! Nel vostro mondo pregate?» «Si dovrebbe pregare in ogni mondo!» «Perché?» «Perché è il riconoscimento delle forze che sono al di fuori di noi stessi!» «Quale religione professate lassù?» «Abbiamo le stesse differenze che avete voi!» «Non avete alcuna conoscenza certa!» «Abbiamo solo la fede!» «Questi problemi religiosi», disse il francese, «non sono interessanti per voi, seri inglesi, e non sono nemmeno molto divertenti! Mi pare che con questa essenza potremmo riuscire a vivere una grande esperienza, non è vero? Qualcosa di cui potremmo parlare?» «Ma niente potrebbe essere più interessante di questo», disse Moir. «Se la pensate così va bene», rispose il francese in tono stizzito. «Da parte mia mi pare di avere già sentito tutto ciò e questa notte vorrei tentare qualche esperimento con tutta questa forza a nostra disposizione, ma se avete altre domande allora fatele, e quando avrete finito possiamo provare qualcos'altro!» Ma l'incanto era spezzato. Chiedemmo e richiedemmo, ma la medium restava in silenzio. Solo il suo respiro profondo e regolare provava che lei era ancora lì. La nebbia si avvolgeva ancora di sopra del tavolo. «Avete turbato l'armonia», non risponderà più. «Ma abbiamo già preso tutto quello che poteva dire, non è vero? Da parte mia desidero vedere qualcosa che non ho mai visto prima.» «Che cosa? Che cosa vorreste fare?» «Vi ho detto che i pensieri sono cose. Ora vorrei provarvelo e mostrarvi che cos'è un pensiero.» «Sì, sì, posso farlo e voi lo vedrete. Ora vi chiedo solo di restare tranquilli, di non dire niente, di mantenere le mani ferme sul tavolo.» La stanza era più buia e silenziosa di prima. La stessa sensazione di ansia che mi aveva preso all'inizio della seduta mi riafferrò il cuore. Le radici dei capelli mi pizzicavano. «Funziona! Funziona!» gridò il francese, e la sua voce era incrinata, il che mi disse che anche lui era teso fino all'estremo. La nebbia luminosa si sollevò lentamente dal tavolo e poi attraversò la stanza, ondeggiando e tremolando. Nell'angolo più lontano e più buio si ammassò e scintillò, indurendosi in basso in un nucleo brillante. Era un nocciolo irradiante, strano, mutevole, luminoso, ma non emanava raggi nell'oscurità. Il colore da giallo verdastro si era trasformato in un rosso cupo e funereo. Poi, intorno a questo nucleo, cominciava ad avvolgersi una spirale di una sostanza scura e fumosa, che si inspessiva e si induriva, diventando più densa e più nera. Quando la luce si spense, soffocò tutto quello che le era cresciuto intorno. «E' scomparso!» «Shh! C'è qualcosa nella stanza!» Sentimmo nell'angolo in cui era stata la luce qualcosa che respirava profondamente e si agitava nell'oscurità. «Che cos'è? Le Duke, che cosa avete fatto?» «Va tutto bene! Non ne verrà alcun danno!» La voce del francese tremava per l'agitazione. «Buon Dio, Moir! C'è un grande animale nella stanza! Eccolo! È vicino alla mia sedia! Va via! Va via!» Era la voce di Harvey Deacon e poi si sentì il rumore di qualcosa che soffiava pesantemente. «E poi, e poi come posso raccontarvi quello che accadde poi?» Una cosa enorme urtava violentemente contro di noi nel buio, si impennava, scalpitava, sbatteva, saltava, sbuffava. Il tavolo fu fatto a pezzi e noi fummo sparpagliati in ogni direzione. L'animale galoppava e si arrampicava tra noi balzando con energia orribile da un angolo all'altro della stanza. Urlavamo tutti per la paura e strisciavamo per terra per allontanarci da quella cosa. Qualcosa mi calpestò la mano sinistra e sentì le ossa frantumarsi sotto il peso. «Una luce! Una luce!» strillò qualcuno. «Moir, ai fiammiferi! I fiammiferi!» «No, non ne ho nessuno! Deacon, dove sono i fiammiferi? Per la misericordia di Dio, i fiammiferi!» «Non riesco a trovarli! Ai francese, fermatelo!» «Al di là delle mie possibilità! Oh, mon dieu! Non riesco a fermarlo!» «La porta! Dov'è la porta?» La mia mano, per fortuna, cadde per caso sulla maniglia mentre brancolavo nel buio. La creatura, ansando e sbuffando, mi oltrepassò e cozzò con un urto violento contro il tramezzo di quercia. Subito dopo che l'animale mi ebbe oltrepassato, girai la maniglia e in un attimo fumo tutti fuori, sbattendo violentemente la porta dietro di noi. Dall'interno arrivavano orribili scalpitii, boati e rovinii. «Che cos'è? In nome di Dio, che cos'è?» «Un cavallo! L'ho visto quando si è aperta la porta, ma la signora Delamer! Dobbiamo andarla a prendere! Andiamo, Markan! Più aspettiamo e meno ci piacerà!» Spalancata la porta, ci precipitammo dentro. La medium era per terra, tra i frantumi della sua sedia. La ferrammo e la trascinammo rapidamente fuori. Quando ormai eravamo alla porta guardai dietro nel buio. C'erano due occhi strani che luccicavano. Poi si sentì un rumore di zoccoli e feci appena in tempo a sbattere la porta. Quando l'animale vi urtò contro e la sfondò. «Sta arrivando! Sta arrivando! Correte! Correte se volete salvarvi!» gridò il francese. Ci fu un altro urto e qualcosa si avventò attraverso la porta spaccata. Era un lungo corno bianco che brillava alla luce della lampada. Per un momento baluginò e poi con uno schiocco scomparve. «Presto! Presto da questa parte!» urlava Harvey Deacon. «Trasportatela qui! Presto!» C'eravamo rifugiati nella camera da pranzo e avevamo chiuso la pesante porta di quercia. Stendemmo la donna svenuta sul sofà e mentre eravamo intenti a farlo, Moir, il duro uomo d'affari, cadde svenuto sul tappeto del focolare. Harvey Deacon era bianco come un cadavere e sussultava e si contraeva come un epilettico. Sentimmo la porta dello studio volare in pezzi con un enorme fracasso mentre l'animale sbuffava e scalpitava nell'atrio, su e giù, scuotendo tutta la casa con la sua furia. Il francese si era coperto il volto con le mani e si inghiocciava come un bambino spaventato. «Che cosa facciamo?» lo scossi rudemente per le spalle. «Un fucile serve a qualcosa!» «No, no! Il potere se ne entrà e allora finirà tutto! Avreste potuto ucciderci tutti, pazzo, con i vostri esperimenti infernali!» «Non lo sapevo! Come facevo a sapere che si sarebbe spaventato! È folle dal terrore! È stata colpa di Deacon! Lo ha percosso!» Un grido terribile risuonò in tutta la casa. «È mia moglie! Devo uscire! Anche se il demonio in persona uscirò!» Spalancò la porta e si precipitò nell'atrio. Alla sua estremità, ai piedi delle scale, la signora D congiaceva svenuta, terrorizzata da ciò che aveva visto. Ma non c'era nient'altro. Con gli occhi pieni di orrore ci guardammo intorno, ma era tutto tranquillo e silenzioso. Mi avvicinai al quadrato nero della porta dello studio, aspettandomi ad ogni passo che qualche creatura terribile avrebbe fatto la sua apparizione. Ma non arrivò niente e tutto era tranquillo nella stanza. Sbirciando e scrutando con il cuore in gola, arrivammo sulla soglia e fissammo nell'oscurità. Non si sentiva nessun rumore, ma in un punto non era buio. Una nube luminosa e brillante con il centro incandescente si librava in un angolo della stanza. Lentamente si oscurò e si volì, diventando più sottile e più fioca, finché la stessa oscurità densa, vellutata, riempì tutto lo studio. E quando balenò l'ultimo luccichio di luce tremolante, il francese ruppe in un grido di gioia. «Che meraviglia!» gridò. «Nessuno è ferito! C'è solo la porta rotta e le signore spaventate, ma, amici miei, abbiamo fatto qualcosa che non era mai stata fatta prima!» «Per quanto mi riguarda», disse Harvey Deacon, «certamente non sarà mai più rifatta». E questo fu tutto ciò che accadde il quattordici aprile scorso al numero diciassette di Butterly Gardens. Ho cominciato col dire che sarebbe grottesco ricorrere a dogmi per spiegare ciò che accadde, ma io ho fornito le mie impressioni, anzi le nostre impressioni, poiché sono corroborate da Harvey Deacon e da John Moir per quello che valgono. Potete, se vi piace, immaginare che fumo vittime di una beffa elaborata e straordinaria, o forse ne sapete più di noi nel campo dell'occultismo, e potete darci notizia di avvenimenti simili. In quest'ultimo caso, una lettera inviata a William Markham al 146M di Albany aiuterebbe a gettare luce su quello che per noi è ancora oscuro. Qui finisce «Giocare col fuoco» di Arthur Conan Doyle, letto da Rosanna Leah. Grazie per l'ascolto! La scelta del fantasma. Un racconto di Arthur Conan Doyle. Legge Rosanna Leah. Sono sicuro che la natura non voleva che diventassi un uomo che si è fatto da sé. Ci sono delle volte in cui stento a credere di avere trascorso vent'anni della mia vita dietro il banco di un droghiere negli stand di Londra, e che è stato in tal modo che sono riuscito a raggiungere un'agiata indipendenza economica e il possesso di Gorstorp Grange. Le mie sono le abitudini di un conservatore, e ho gusti raffinati e aristocratici. Disprezzo per istinto la plebaglia volgare. La nostra famiglia, i Dodd, risale ad epoche remotissime, come si può dedurre dal fatto che il loro avvento nella storia britannica non viene registrato da nessuno storico degno di nota. Qualcosa mi dice che mi scorre nelle vene il sangue di un crociato. Perfino adesso che sono passati tanti anni esclamazioni del tipo «per la nostra signora» mi salgono naturalmente alle labbra, e sento che se le circostanze lo richiedessero potrei sollevarmi sulle staffe e colpire un infedele, diciamo con una mazza, sbalordendolo alquanto. Gorstorp Grange è un palazzo feudale, o almeno così veniva definito nell'annuncio che lo ha portato alla mia attenzione. Il diritto di freggiarsi di tale aggettivo aveva un effetto notevolissimo sul suo prezzo, e i vantaggi che se ne potevano ricavare erano più sentimentali che tangibili. Eppure mi rinfranca sapere che nelle scale ci sono delle feritoie dalle quali si possono lanciare frecce, e mi dà una sensazione di potenza il fatto di possedere un complicato apparato tramite il quale potrei fare cadere piombo fuso sulla testa di occasionali visitatori. Sono tutte cose che bene si armonizzano con il mio bizzarro umorismo, e non mi dispiace l'avere dovuto pagare tanto per averli. Sono orgoglioso dei miei bastioni e del fossato che circonda la mia proprietà. Manca soltanto una cosa per completare il medioevalismo della mia dimora e per renderla armonicamente e completamente a vita. Gorstorp Grange non ha un fantasma. Qualsiasi uomo dà i gusti all'antica, e con le idee chiare sulle istituzioni di questo tipo sarebbe rimasto deluso come me nello scoprire una tale mancanza. Nel mio caso sono stato particolarmente sfortunato. Fin dall'infanzia studiavo con passione il soprannaturale e ci credevo fermamente. Mi sono dedicato alla letteratura sui fantasmi finché non c'è rimasto più un solo racconto del genere che non abbia letto. Ho imparato il tedesco al solo scopo di comprendere un libro di demonologia. Da bambino mi sono chiuso in una stanza buia con la speranza di vedere qualcuno di quegli spiriti con i quali la balia soleva spaventarmi e questo sentimento è ancora fortissimo in me, oggi come allora. È stato un momento di grande orgoglio quando ho avuto la certezza che con i soldi avrei potuto ordinare anche un fantasma, oltre a tutti gli altri lussi. È vero che nell'annuncio non si faceva menzione di apparizioni soprannaturali. Visionando i muri umidi, tuttavia, e i corridoi bui, avevo dato per scontato che ci fossero i fantasmi. Poiché la presenza di un canile presuppone l'esistenza di un cane, immaginavo che non fosse possibile che un posto così ambito non fosse abitato da qualche spirito irrequieto. Dio del cielo, che cosa deve avere fatto durante queste centinaia d'anni la nobile famiglia che mi ha venduto la proprietà? Non c'era dunque stato nessun membro abbastanza focoso da far fuori la sua bella o da architettare azioni tali da procurarsi uno spettro di famiglia? Anche adesso mi risulta difficile parlare senza irritarmi dell'argomento. Per lungo tempo sperai contro tutte le speranze. Non c'era ratto che squittisse dietro i pannelli di legno, goccia d'acqua che trappelasse dal pavimento della soffitta senza farmi trepidare di eccitazione al pensiero che finalmente stavo trovando le tracce di uno spirito inquieto. In queste occasioni non avevo la minima paura. Se il fatto capitava di notte mandavo la signora Dodd, una donna forte, ad investigare mentre io mi coprivo la testa con il lenzuolo abbandonandomi all'estasi dell'attesa. Purtroppo l'esito era sempre lo stesso. Il rumore sospetto era causato da motivi così assurdamente normali e banali che non riuscivo a conferirgli un alone romantico neppure con la mia fervidissima immaginazione. Alla fine avrei accettato la realtà se non fosse stato per Jorox di Havistock Farm. Jorox è un tipo pratico e rude e l'ho conosciuto unicamente per la circostanza fortuita che i suoi terreni confinano con la mia proprietà. Nonostante il suo totale spregio per la bellezza archeologica, quest'uomo possiede uno spettro innegabile e assolutamente autentico. La sua esistenza risale, credo, al regno di Giorgio II, epoca in cui una giovane dama si tagliò la gola dopo avere appreso della morte del suo innamorato nella battaglia di Dettingen. Basterebbe questo a conferire alla casa un'aria di rispettabilità. E invece ci sono anche le macchie di sangue sul pavimento. Jorox è del tutto ignaro della propria fortuna e tutte le volte che parla dell'apparizione dello spettro usa un linguaggio che mi fa veramente male sentire. Non immagina neppure minimamente quanto io brami uno di quei gemiti notturni che lui mi descrive con le sue critiche superflue. Ma prima o poi arriverà il momento in cui gli spettri più democratici potranno abbandonare i proprietari terrieri e annullare ogni distinzione sociale rifugiandosi anche nelle case di personaggi sconosciuti. La perseveranza non mi manca. Nient'altro avrebbe potuto sollevarmi nella mia giusta sfera considerando l'atmosfera poco congeniale nella quale avevo trascorso la prima parte della mia vita. Ormai sentivo che era necessario assicurarmi un fantasma. Ma come fare a trovarne uno sfuggiva sia a me che alla signora Todd? Le mie letture mi dicevano che tali fenomeni di solito si verificano in conseguenza di crimini. Quale crimine doveva essere commesso allora e chi doveva macchiarsene? Mi venne in mente l'idea assurda che Watkins, il maggiordomo, avrebbe potuto essere convinto con una congrua ricompensa ad immolarsi o ad immolare qualcun altro per amore delle istituzioni. Gli profilai la cosa in tono semischerzoso, ma l'idea non parve impressionarlo favorevolmente. Gli altri domestici erano della sua stessa opinione, altrimenti non so spiegare perché lasciarono in massa la casa quel pomeriggio stesso. Mio caro, mi disse un giorno dopo cena la signora Dodd, mentre io me ne stavo seduto a sorseggiare una coppa di vino bianco del sud Europa. Amo i vecchi nomi. Mio caro, quell'odioso fantasma di Jorox si è lamentato di nuovo. Lascialo lamentare, le risposi in tono garbato. La signora Dodd pizzicò qualche corda della sua arpa e scrutò pensierosa il fuoco. Ti dico io che cosa si deve fare, Argentina, disse alla fine usando il vezzeggiativo con il quale eravamo soliti sostituire il mio nome, Silas. Dobbiamo farci mandare un fantasma da Londra. Ma come puoi essere così stupida, Matilda? Commentai con severità. Chi potrebbe farci avere una cosa del genere? Mio cugino Jack Brockett potrebbe, mi rispose lei tutta fiduciosa. Ordunque, questo cugino di Matilda era un argomento doloroso. Era un giovane dissoluto e intelligente che aveva provato molti campi senza riuscire in nessuno per mancanza di perseveranza. Al momento si trovava a Londra, alle camere, spacciandosi per consulente finanziario e vivendo principalmente di espedienti. Matilda aveva fatto in modo che gran parte dei nostri affari passassero nelle sue mani, il che mi risparmiava indubbiamente diversi grattacapi, ma secondo me la commissione che si prendeva da noi era decisamente più alta di tutte le altre voci messe insieme. Era questo fatto a rendermi poco propenso a concludere ulteriori affari con questo giovane gentiluomo. Lui sì che potrebbe, insistette la signora Dee, vedendo lo sguardo di disapprovazione sulla mia faccia. Ti ricordi come è stato bravo in quella storia dell'emblema? È stata soltanto una ravvivata allo stemma di famiglia, mia cara, protestai. Matilda sorrise in maniera irritante. C'è stata anche la faccenda dei ritratti di famiglia, caro, osservò. Devi riconoscere che Jack li ha scelti con molta intelligenza. Pensai alla lunga sequenza di facce che ornavano le pareti della mia sala dei banchetti, dal corpulento rapinatore normanno passando per ogni genere di elmi, piume e gorgere, al cupo chesterfieldiano che doveva essersi appoggiato ad una colonna, straziato dal dolore, al ritorno di una fanciulla che afferra convulsamente il bordo di un tavolo con la mano destra. Non volevo ammettere che quella volta Jack aveva fatto bene il suo lavoro e che era giusto commissionargli un ordine al solito prezzo per uno spettro di famiglia, se davvero era possibile ottenerlo. È una delle mie massime agire prontamente una volta presa una decisione. La tarda mattinata del giorno dopo mi trovò a salire la scala a chiocciola che conduce agli appartamenti di Broket, ammirando la successione di frecce ditate sulla parete imbiancata che indicavano la direzione del santuario del gentiluomo. Ma in quel momento aiuti di quel genere non erano necessari, visto che da sopra arrivava il rumore di un'accesa danza che non poteva venire da nessun altro appartamento, sebbene fosse subito seguito dal silenzio non appena salì le scale. La porta mi venne aperta da un giovane evidentemente sorpreso dell'apparizione di un cliente e da questo fui scortato dal mio giovane amico che stava scrivendo furiosamente sopra un largo registro, alla rovescia, come scoprì dopo. Dopo il primo scambio di saluti affrontai subito l'argomento. «Senti, Jack», dissi, «voglio che mi trovi uno spirito, se è possibile». «Uno spirito», esclamò il cugino di mia moglie, mettendo la mano nel cesto della carta straccia e tirando fuori una bottiglia con la sveltezza di un illusionista. «Eccolo qui, un po' di spirito!». Alzai la mano in gesto di muta disapprovazione per l'abitudine di bere così presto, ma riabbassandola scoprì che avevo chiuso quasi involontariamente le dita intorno al calice che l'altro mi aveva passato. Bevì di corsa il suo contenuto per evitare di essere visto da qualcuno arrivato improvvisamente e mi sedetti come un ubriacone. Dopotutto le eccentricità di quel ragazzo erano anche divertenti. «Niente spiriti», gli spiegai sorridendo. «Voglio uno spettro, un fantasma. Se è possibile averlo, sarei felice di trattare l'affare con te». «Uno spettro per Gorstorp Grange», chiese con freddezza il signor Brocket, come se gli avessi chiesto una suite con salotto. «Esattamente», gli risposi. «È la cosa più facile del mondo», disse l'altro riempiendomi nuovamente il bicchiere, ignorando le mie proteste. «Vediamo». Apri una rubrica rossa con le lettere alfabetiche di lato. «Un fantasma, hai detto, vero?» «Ecco la FFF Falchi Farmaci Fodere...» «Ah, ecco! Fantasmi!» «Volume 9, sezione 6, pagina 41. Scusami». E Jack si arrampicò su una scala e cominciò a scartabellare in una pila di registri posti su uno scaffale in alto. Stavo quasi per vuotare il mio bicchiere nella sputacchiera quando si girò. Ripensandoci, ne disposi illegittimamente. «Eccolo!» esultò il mio agente di Londra, soltando giù dalla scala rumorosamente, posando un enorme volume di manoscritti sul tavolo. «Ho catalogato tutto, perciò posso trovare quello che voglio in un momento. Allora...» «Vediamo...» A questo punto riempì nuovamente i bicchieri. «Che cosa stavamo cercando?» «Fantasmi», gli suggerì. «Certo, pagina 41. Ci siamo. J. H. Fowler & Son, Dunkel Street. Fornitori di medium all'alta e alla piccola nobiltà. Incantesimi, filtri d'amore, mummie, oroscopi. Nulla che faccio al caso tuo, mi sembra». Scossi la testa. «Frederick Tubb», continuò il cugino di mia moglie. «L'unico canale di comunicazione tra i vivi e i morti. Proprietario degli spiriti di Byron, Kirk, White, Grimaldi, Tom Cribb e Nico Jones. Ci siamo». «Niente di abbastanza romantico», obiettai. «Cielo, immaginati un fantasma con un occhio nero e un fazzoletto legato alla vita. Oppure che fa le capriole e dice «come state domani».» La sola idea mi faceva talmente ribrezzo che mi riempì di nuovo il bicchiere. «Eccone un altro», disse il mio amico. «Christopher McCarthy, sedute spiritiche bisettimanali, frequentate dagli spiriti più eminenti, sia antichi che moderni. Nascite, incantesimi, abracadabra, messaggi per i morti. Potrebbe esserci utile». «In ogni caso passerò da lui di persona domani e mi farò mostrare qualche fantasma. Conosco i suoi spettri e sarà difficile che non riesca a prenderne qualcuno economico. E adesso che l'affare è concluso», disse lanciando il registro nell'angolo, «beviamoci sopra». C'erano numerose cose alle quali bere, talmente numerose che il mattino dopo ero completamente privo di ogni immaginazione ed ebbi qualche difficoltà a spiegare alla signora Dodd come mai, prima di andare a dormire avevo appeso all'attaccapanni anche gli stivali e gli occhiali. Le nuove speranze che mi aveva infuso la sicurezza con cui il mio rappresentante aveva assunto la commissione mi facevano superare l'effetto dei postumi dell'alcol. Così me ne andai a passeggiare tra i corridoi e le antiche stanze, immaginandomi lo spettro che avrei presto acquistato e decidendo quale parte dell'edificio si sarebbe armonizzata meglio con la sua presenza. Dopo lunghe riflessioni scelsi la sala dei banchetti che mi sembrava il luogo più idoneo ad accoglierlo. Era una stanza lunga e bassa, tappezzata con arazzi pregiati e interessanti reliquie dell'antica famiglia alla quale era appartenuta. Cotte di maglia e armamentari da battaglia brillavano alla luce del fuoco e il vento filtrava sotto la porta, muovendo i tendaggi avanti e indietro con un frusciare spettrale. Da un lato c'era una predella sulla quale anticamente l'ospite e i suoi commensali erano soliti fare apparecchiare la tavola, mentre due scalini conducevano nella parte bassa della sala, dove facevano baldoria i vassalli e gli attendenti. Sul pavimento non c'erano tappeti, ma vi era stato disteso sopra, su mio ordine, una stuoia di giunchi. Non c'era nulla lì dentro che mi ricordasse il diciannovesimo secolo, fatta eccezione forse per la mia argenteria massiccia con il risorto stemma di famiglia disposta al centro di un tavolo di quercia. Quella, decisi, doveva essere la stanza abitata dal fantasma, sempre che il cugino di mia moglie riuscisse ad acquistarne uno. Adesso non restava altro che aspettare pazientemente le prime notizie sugli esiti delle sue ricerche. Dopo qualche giorno arrivò una lettera che, pur se breve, era molto incoraggiante. Era scritta a matita sul retro di un manifestino e, a quanto sembrava, era stata incollata con una presa di tabacco. «Sono sulla buona strada», diceva. Impossibile trovare articoli del genere da nessun occultista, ma ieri ho trovato un tizio al pub che mi ha promesso di occuparmi del suo caso. Te lo mando lì, a meno che non mi telegrafi di non farlo. Si chiama Abrahams e ha già fatto una o due volte commissioni di questo tipo. La lettera finiva poi con delle vaghe allusioni ad un assegno ed era firmata dal mio affezionato cugino Jack Brokett. Inutile dire che non telegrafai e che attesi con impazienza l'arrivo del signor Abrahams. Nonostante credessi al soprannaturale, stentavo a credere che un mortale avesse tanto potere sul mondo degli spettri da trattare con loro e comprarli con il solo denaro. Eppure Jack mi dava la sua parola che un commercio del genere esisteva e c'era un gentiluomo con il nome ebraico pronto a dimostrarmelo. Come sarebbe parso volgare e banale lo spettro del diciottesimo secolo di Jorox paragonato al mio fantasma d'epoca medievale. E fui sul punto di credere che me ne era stato mandato uno in anticipo, perché quella sera, mentre passeggiavo lungo il fossato prima di andare a dormire, mi imbattei in una figura scura intenta ad esaminare il funzionamento della mia saracinesca e del ponte mobile. Vederla trasalire tuttavia e scappare nel buio mi convinse subito che era di natura terrena e decisi che si trattava di qualche ammiratore di una delle mie domestiche che si doleva sul fangoso e l'esponto che lo divideva dal suo amore. Chiunque fosse, una volta scomparso, non tornò più, sebbene continuassi a bighellunare per un po' di tempo là intorno nella speranza di rivederlo e di esercitare sulla sua persona i miei diritti feudali. Jack Brocket mantenne la sua promessa. Cominciavano a raccogliersi le ombre di una nuova sera sul Gorstorp Grange quando lo scampanio della campanella dell'uscio annunciò l'arrivo del signor Abrahams. Scesi di corsa ad incontrarlo, aspettandomi quasi di vederlo scortato da un vasto seguito di fantasmi. Tuttavia, anziché essere un tipo tetro e malinconico, come immaginavo, il venditore di spettri era un piccoletto robusto, con due occhietti incredibilmente lucidi e la bocca perennemente atteggiata ad un sorriso allegro, anche se forzato. Il suo unico campionario sembrava consistere in una borsetta di pelle gelosamente custodita, la quale emise un tintinnio metallico non appena la posò sulle bandiere scolpite della sala. «Come va, signore?» mi chiese, stringendomi la mano con incredibile effusione. «E la signora sta bene? E gli altri? Come stanno tutti?» Gli dissi che stavamo tutti benissimo, ma il signor Abrahams vide da lontano la signora Dodd e andò subito da lei, rivolgendole un'altra fila di domande sulla sua salute, esposte con tale interesse e sull'ecitudine che quasi mi aspettavo di vederlo concludere il suo attento esame tastandole il polso e chiedendole di mostrargli la lingua. Nel frattempo i suoi occhietti giravano dappertutto, spostandosi dal pavimento al soffitto e dal soffitto ai muri, comprendendo in un solo sguardo ogni singolo pezzo di arredamento. Dopo essersi accertato che nessuno di noi era in cattiva salute, il signor Abrahams si fece condurre di sopra, dove avevamo fatto preparare un pranzo leggero al quale fece pienamente onore. Si era portato dietro la misteriosa valigetta e durante il pranzo la tenne sotto la sedia. Solo quando la tavola venne sparecchiata e rimanemmo soli, si decise ad affrontare il motivo della sua visita. «Mi è parso di capire», cominciò prudentemente, «che volete che vi aiuti a rendere più degna questa casa con la presenza di uno spettro». Gli risposi che era esatto, mentre mi meravigliavo in silenzio di quei due occhi instancabili che continuavano ad esaminare tutta la sala come per fare un inventario degli oggetti in essa contenuti. «E non troverete nessuno più adatto di me per questo lavoro, anche se non dovrei dirlo», proseguì il mio ospite. «Che cosa ho detto al giovane agente con cui ho parlato al bar di Lame Dog? Lo sapete fare?», chiese lui mettendomi alla prova. «Mettetemi alla prova», dico io. «Me la mia borsa. Mettetemi alla prova e basta». Non potevo dirgli di più. Il mio rispetto per le capacità di affarista di Jack Brocket cominciava ad aumentare notevolmente. Sembrava proprio che avesse disposto tutto per il meglio. «Non vorrete mica dirmi che portate gli spettri nella borsa», gli chiesi diffidente. Il signor Abrahams sorrise come chi ne sa di più degli altri. «Voi aspettate», disse. «Datemi il posto giusto e l'ora giusta con un po' di essenza di Luca Optolicus». E qui tirò fuori una bottiglietta dalla tasca. «E non c'è fantasma che mi resista. Lo vedrete voi stessi e sceglierete quello che vorrete. Ve lo garantisco». Dal momento che le garanzie del signor Abrahams erano accompagnate da un sorrisetto furbesco e da una strizzatina d'occhio, quell'uomo non mi dava un'impressione di grande candore. «Quando intendete cominciare», gli chiesi cortesemente. «All'una meno dieci del mattino», disse risoluto il signor Abrahams. «Qualcuno dice a mezzanotte, ma io dico l'una meno dieci, quando non c'è troppo affollamento e potete scegliere bene il vostro fantasma. E adesso», proseguì alzandosi in piedi, «suppongo che vogliate farmi fare un giretto per mostrarmi dove lo volete, perché certi posti li attirano, mentre di certi altri non vogliono proprio saperne, anche se fosse l'ultimo posto disponibile al mondo». Il signor Abrahams ispezionò i nostri corridoi e le nostre camere con occhio critico e acuto, toccando gli antichi arazzi con aria da esperto e osservando a voce bassa che si adattava tutto incredibilmente bene. Ma fu solo quando arrivammo alla sala dei banchetti, quella che avevo scelto, che il suo entusiasmo arrivò al massimo. «È questo il posto!», gridò, ballando con la borsa in mano intorno al tavolo dell'argenteria come una specie di folletto. «È questo il posto! Niente lo batte! Una sala raffinata, nobile, solida! Niente di quella robaccia moderna! È proprio così che vanno fatte le cose, signore! Bisogna disporre di un vasto spazio! Mandatemi un po' di brandy e la scatola dei sigari. Mi siederò qui accanto al fuoco e sbrigherò tutti i preparativi, il che è più complicato di quel che crediate, perché i fantasmi, certe volte, sono terribili prima di capire con chi hanno a che fare. Se vi trovassero nella stanza, vi farebbero a pezzi, che vi piaccia o no. Lasciate che sia solo a vedermela con loro. Poi, a mezzanotte, tornate qui. Vi assicuro che a quell'ora li troverete abbastanza tranquilli». La richiesta del signor Abrams mi parve ragionevole. Perciò lo lasciai da solo, con i piedi appoggiati contro il caminetto e la sedia rivolta verso il fuoco, a farsi coraggio, con i dovuti stimolanti relativamente ai suoi refrattari visitatori. Dalla stanza di sotto, dove mi trovavo con la signora Dodd, sentì che dopo un po' si era alzato e aveva iniziato a camminare con impazienza su e giù per la scala. Poi lo sentimmo trafficare con la serratura della porta e trascinare qualcosa di pesante verso la finestra, sulla quale probabilmente era salito, perché si udirono scricchiolare i vecchi cardini mentre il telaio si chiudeva. Sapevo che quel tizio non ci arrivava. La signora Dodd disse di averlo sentito sussurrare in fretta qualcosa, ma forse era solo la sua immaginazione. Confesso che cominciavo a sentirmi più eccitato di quanto credessi. Faceva paura pensare a quel solitario mortale in piedi davanti alla finestra a chiamare nella stanza gli spiriti dell'altro mondo. Fu con una trepidazione che non sfuggì a Matilda che notai come le lancette dell'orologio segnassero le dodici e mezza e che perciò era ora di andare ad unirmi alla veglia del mio visitatore. Quando entrai notai che era seduto come prima e che non c'era alcun segno dei misteriosi movimenti da me uditi, a parte forse il fatto che aveva la faccia rossa come se avesse compiuto da poco uno sforzo. Sta andando tutto bene? Gli chiesi non appena fui dentro, assumendo un'aria il più indifferente possibile ma lanciando istintivamente uno sguardo intorno per vedere se eravamo soli. Serve soltanto il vostro aiuto per completare l'opera, disse il signor Abrams in tono solenne. Voi vi siederete accanto a me e prenderete l'essenza di Lucoptolicus che solleva il velo che ricopre i vostri occhi terreni. Qualunque cosa vediate non parlate, non vi muovete, altrimenti spezzerete l'incantesimo. Adesso sembrava una persona controllata e non si esprimeva più con la sua solita volgarità. Sedetti come mi indicava e attesi il risultato. L'uomo liberò dalla stuoia il pavimento intorno a noi, quindi si abbassò sulle ginocchia e tracciò con il gesso un semicerchio che racchiudeva sia a noi che il caminetto. Intorno al bordo di tale semicerchio disegnò diversi geroglifici che mi parvero somiglianti ai segni dello zodiaco. Poi si rialzò e mormorò una lunga invocazione, pronunciandola talmente in fretta da sembrare un'unica parola gigantesca appartenente ad una lingua gutturale. Terminata la sua preghiera, se tale era, tirò fuori la bottiglietta che mi aveva già mostrato e versò due cucchiaini del liquido trasparente in esso contenuto dentro una fiala. Poi mi ordinò di berla. Il liquido aveva un odore vagamente dolciastro, simile al profumo di un certo tipo di miele. Prima di portarlo alle labbra ebbi un attimo di esitazione, ma un gesto di impazienza da parte del mio compagno mi fece vincere gli indogi, e allora l'ingogliai. Il sapore non era sgradevole e dal momento che non produceva effetti immediati mi appoggiai alla sedia e mi preparai al seguito. Il signor Abrahams si sedette accanto a me. Mi accorgevo che ogni tanto mi guardava mentre nel frattempo pronunciava altri incantesimi come quello di prima. A poco a poco si diffuse dentro di me una deliziosa sensazione di calore e di languore, in parte forse dovuta al fuoco e in parte a qualche oscura ragione. Mi prese un incontrollabile desiderio di chiudere gli occhi e al tempo stesso il mio cervello iniziò a lavorare freneticamente, attraversato da un centinaio di splendide e piacevoli idee. Mi sentivo talmente illanguidito che, pur rendendomi conto che il mio compagno mi posava la mano sul cuore come per accertarsi che stesse battendo, non cercai di impedirglielo e neanche gli chiesi perché lo facesse. Mi sembrava che tutti gli oggetti della sala partecipassero ad una lenta danza della quale io ero il centro. La grossa testa d'alce appesa in fondo ondeggiava solennemente avanti e indietro, mentre i vassoi d'argento massiccio sul tavolo ballavano la quadriglia con il cestello del vino e il centro tavola. Poi la testa mi cadde pesantemente sul petto e avrei perso completamente conoscenza se non mi avesse risvegliato l'aprirsi della porta all'altro capo della sala. Questa porta conduceva al palco sopraelevato che, come ho già detto, usavano esclusivamente i proprietari della casa. Quando girò lentamente sui cardini rimasi immobile sulla sedia, afferrai i braccioli e fissai con orrore il corridoio scuro oltre l'uscio. Stava per entrare qualcosa, qualcosa di informe, indefinito, ma pur sempre qualcosa. La vidi svolazzare, vaga e nebulosa sulla soglia, mentre nella stanza entrava una raffica d'aria gelida che mi investia, ghiacciandomi il cuore. Ero conscio della misteriosa presenza e poi la sentii parlare con una voce lontana, come il soffio del vento dell'est tra i pini del litorale di una spiaggia deserta. Disse, sono l'invisibile non-entità, ho affinità e sono inafferrabile. Sono elettrica, magnetica e spirituale. Sono la grande sospiratrice dell'etere. Uccido i cani. Mortale, vuoi scegliermi? Stavo per parlare, ma le parole mi morivano in gola, e prima che ritrovassi il fiato, l'ombra scivolò verso l'altra parte della sala e svanì nel buio, facendo risuonare in tutta la casa un lungo sospiro malinconico. Rivolsi nuovamente lo sguardo alla porta e, con grande sbalordimento, vidi una vecchia molto piccola che zoppicava verso la sala. Passò avanti e indietro diverse volte, poi, ingobbendosi vicino al bordo del cerchio disegnato sul pavimento, assunse un'espressione così orribilmente maligna che non la scorderò mai più. Su quella faccia orrenda pareva si fossero concentrate tutte le passioni più nefaste. Ah ah! gridò allungando le sue mani raggrinzite come artigli di un rapace. Tu lo vedi che cosa sono? Sono la vecchia diabolica! Le mie vesti non hanno colori! Lancio maledizioni sulla gente! Sir Walter è stato ingiusto con me! Sarò dunque tua, mortale? Con uno sforzo tremendo riuscì a scuotere la testa, al che lei mi agitò contro la gruccia e scomparve con un urlo tremendo. Stavolta i miei occhi si volsero naturalmente verso la porta aperta e rimasi piuttosto sorpreso nel vedere entrare un uomo alto e nobile. Il suo viso era di un pallore mortale, ma era incorniciato da una frangia di riccioli neri che gli ricadevano a boccoli sulle spalle. Al mento portava una barbetta appuntita, indossava delle vesti morbide all'apparenza di raso giallo e intorno al collo aveva un alto collare bianco. Venne avanti con passi lenti e maestosi, quindi si girò e mi parlò con una voce dolce e squisitamente modulata. Io sono il cavaliere, disse. Trafiggo e vengo trafitto. Questo è il mio stocco. Tintinno d'acciaio. Questa è la macchia di sangue che ho sul cuore. Posso emettere cupi lamenti. Frequento molte antiche famiglie conservatrici. Sono lo spettro originale della casa. Lavoro solo o al massimo in compagnia di qualche damigella piangente. Chinò quindi il capo affettatamente come se aspettasse la mia risposta, ma mi prese nuovamente quella sensazione di soffocamento che mi impediva di parlare. Allora, con un profondo inchino, il cavaliere scomparve. Se n'era appena andato quando si impadronì di me una sensazione di violento orrore e avvertì la presenza di una creatura spettrale dai vaghi contorni e dalle dimensioni indefinibili. In certi momenti, infatti, pareva pervadere tutta la casa, mentre in altri diventava invisibile, ma lasciava sempre dietro di sé la propria presenza. La voce, quando mi parlò, era tremula e impetuosa. Disse «Io sono il dispensatore di passi e lo spargitore di sangue. Cammino pesantemente per i corridoi. Charles Dickens ha parlato di me. Faccio rumori strani e fastidiosi. Rubo le lettere e poso mani invisibili sui polsi della gente. Sono allegro. Scoppio in fragorose risate. Devo farne una come dimostrazione». Sollevai la mano per dirgli di no, ma non feci in tempo ad impedirgli di scoppiare in una risata che risuonò per tutta la sala. Prima che riabbassassi il braccio, l'apparizione era già scomparsa. Girai la testa verso la porta in tempo per vedere entrare un uomo in tutta fretta. Era un tipo possente e abbronzato, con tanto di orecchini e fazzoletto alla barcellona legato intorno al collo. Aveva la testa china sul petto e l'aspetto di chi è tormentato da un insopportabile rimorso. Camminava velocemente su e giù come una tigra in gabbia e notai che in una mano teneva un pugnale e nell'altra una specie di pergamena. La voce, quando parlò, era profonda e vibrante. Disse «Io sono l'assassino. Sono un miserabile. Conosco la lotta spagnola. So organizzare la caccia al tesoro. Ho mappe e carte. Sono forte e un buon camminatore. Riesco a frequentare grandi parchi». Mi guardò con un'espressione implorante, ma prima che riuscissi a fargli un segno, venni paralizzato dalla vista orribile che apparve sulla porta. Era un uomo altissimo, se uomo si può chiamare, visto che dalla carne macilenta gli uscivano fuori le ossa e la sua faccia era grigia come il piombo. Era avvolto in un lenzuolo svolazzante che gli formava un cappuccio sopra la testa, sotto il quale brillavano due occhi diabolici profondamente incavati, che fiammeggiavano come tizzoni ardenti. Dalla bocca aperta sul petto uscivano una lingua avvizzita e due file di denti neri e appuntiti. Tremai quando lo spettro venne verso il cerchio e distinto mi ritrassi. «Sono il raggelasangue americano», disse con una voce che pareva uscire dalla profondità della terra. «Non credete a nessun altro. Sono l'incarnazione di Edgar Allan Poe. Sono dettagliato e orrendo. Sono uno spettro di basso livello sociale e agghiaccio la gente. Osservate il mio sangue e le mie ossa. Sono sporco e nauseabondo. Non ricorro a nessun trucco artificiale. Mi servo di sudari, coperchi di bara e di una batteria galvanica. Faccio sbiancare i capelli in una sola notte». La creatura distese quindi le braccia scheletrite verso di me per incoraggiarmi, ma io scossi la testa, facendola svanire con il suo odore ripugnante e penetrante. Sprofondai poi nella sedia, talmente sopraffatto dal terrore e dal disgusto che avrei rinunciato volentieri ad un fantasma, se solo fossi stato sicuro che quello era l'ultimo di quell'orribile processione. Ma un fruscio di vesti mi avvertì che non era così. Alzando gli occhi vidi emergere alla luce del corridoio una figura bianca. Mentre varcava la soglia vidi che era una donna giovane e bella, vestita con abiti di foggia antiquata. Si stringeva le mani al petto e sul suo viso pallido e altero si vedevano segni di lotta e sofferenza. Attraversò la stanza con un dolce frusciare di foglie secche, quindi, posando i suoi occhi stupendi e indicibilmente tristi su di me, disse «Io sono la malinconica e la romantica, la bellezza maltrattata. Sono stata tradita e abbandonata. Grido di notte, scivolo per i corridoi. I miei antenati sono rispettabili e quasi tutti aristocratici. O gusti raffinati, questo mobiglio di vecchia quercia potrebbe anche andarmi bene con l'aggiunta di qualche cotta di maglia e altri arazzi. Non volete assumermi?» Mentre finiva la propria presentazione, la voce le morì con una graziosa cadenza e allora mi tese le mani in atteggiamento suppliche. Sono sempre stato sensibile al fascino femminile. E poi, che cos'era al confronto il fantasma di Jorrox, poteva forse esistere qualcosa di più raffinato. Inoltre non mi sarei più dovuto sottoporre all'ulteriore supplizio di sentire altri spettri come quello di prima, se decidevo subito. La donna mi rivolse un sorriso serafico, come se sapesse quello che mi passava per la testa. Quel sorriso mi fece decidere. «La prendo!» esclamai. «Scelgo lei!» E mentre nella foga dell'entusiasmo mi dirigevo verso di lei, oltrepassai senza accorgermene il cerchio. «Argentine, siamo stati truffati!» Ebbi la vaga consapevolezza di sentire quelle parole, o per meglio dire, quell'urlo rimbombarmi nelle orecchie centinaia di volte senza che ne capissi il significato. Contemporaneamente mi scoppiò un dolore lancinante alla testa e chiusi gli occhi per resistere all'eco del grido. «Truffati! Truffati! Truffati!» Tuttavia un vigoroso scrollone me li fece riaprire, e la vista della signora Dodd, mezzanuda e infuriata, bastò a farmi tornare lucido e rendermi conto che ero riverso sul pavimento, con la testa tra le ceneri del caminetto e una fialetta di vetro in mano. Barcollando mi rimisi in piedi, ma la debolezza mi obbligò a buttarmi sulla sedia. Quando mi si schiarirono un po' le idee, grazie all'aiuto dei continui improperi di Matilda, cominciai lentamente a ricordare gli avvenimenti di quella notte. C'era la porta dalla quale erano usciti i miei visitatori soprannaturali. C'era il vecchio di gesso con i suoi geroglifici, e c'erano la bottiglia di brandy e la scatola dei sigari tanto onorati dall'attenzione del signore Abrams. Ma il veggente? Lui dov'era? Che significava la finestra aperta con la corda attaccata? Dov'era l'orgoglio di Gorstop Grange, la gloriosa argenteria che avrebbe dovuto essere il vanto di intere generazioni di Dodd. E perché la signora Dodd stava lì in piedi alla luce grigia dell'alba a torcersi le mani e a ripetere quel monotono ritornello? Il mio cervello afferrò tutti questi particolari solo a poco a poco, e alla fine comprese l'orrenda verità. Lettore, da allora non ho più rivisto il signor Abrams, non ho più rivisto neanche l'argenteria con il ripristinato stemma di famiglia, e cosa più grave di tutte, non ho più rivisto l'ombra del malinconico spettro e i suoi vestiti fruscianti, né mi aspetto di rivederli ancora. A dire la verità, l'esperienza di quella notte mi ha fatto passare tutte le mie fantasie sul soprannaturale e mi ha decisamente riconciliato con l'idea di andare ad abitare in quel prosaico edificio del XIX secolo alla periferia di Londra sul quale la signora Dodd ha messo da molto tempo l'occhio. Quanto alla spiegazione di quello che è accaduto, beh, è una cosa che si presta a diverse ipotesi. Che il signor Abrams, la chiappa fantasmi, fosse identico a Jamie Wilson, alias lo scassinatore di Nottingham, viene ritenuto più che probabile da Scotland Yard, e di certo la descrizione del famoso ladro risponde a quella del mio visitatore. La valigetta di cui ho parlato venne ritrovata in un prato vicino il giorno dopo e conteneva un vasto assortimento di piedi di porco e arnesi da scasso. Le impronte rimaste impresse nel fango su entrambi i lati del fossato mostrarono che un complice piazzatosi di sotto aveva ricevuto la sacca della preziosa argenteria fatta calare dalla finestra. Senza dubbio i due furfanti, in cerca di un lavoretto da fare, avevano sentito della bizzarra ricerca di Jack Brokett e avevano afferrato al volo l'ottima occasione. E quanto ai miei meno corporei visitatori e alla grottesca visione di cui avevo goduto, devo attribuirli ai poteri occulti del mio amico di Nottingham? Per molto tempo ho nutrito parecchi dubbi in merito, e alla fine ho cercato di risolverli consultando un famoso analista al quale ho mandato le ultime gocce della cosiddetta essenza di Lucoptolicus rimaste nella fiala. Riporto qui la lettera che mi ha spedito, felicissimo di avere l'opportunità di chiudere la mia storia con le parole di un uomo di scienza. Arundel Street Caro signore, il suo insolito caso mi ha estremamente interessato. La bottiglia che mi ha mandato conteneva una forte soluzione di clorali o è la quantità che dice di avere ingerito doveva corrispondere ad almeno otto grani di idrato. Tale dose l'avrebbe di certo fatta cadere in uno stato di parziale insensibilità che sarebbe proseguita nel coma totale. In questo stato semicosciente indotto dal cloralio non è insolito che si verifichino bizzarre visioni, specialmente per chi non è avvezzo all'uso di droghe. Mi comunica nella sua lettera di avere la testa piena di racconti di fantasmi e di avere da molto tempo un morboso interesse nel classificare e ricordare le varie forme nelle quali si dice appaiano agli spettri. Deve ricordare anche che si aspettava di vedere qualcosa di soprannaturale e che il suo sistema nervoso era incredibilmente eccitato. In tali circostanze ritengo che lungi dal soprannaturale sarebbe stato davvero sorprendente per chiunque conosca i narcotici se lei non avesse risentito di tali effetti. Le porgo, caro signore, e più distinti saluti. T.E.S. Tube, M.D., Argentine Dood, di Elms, Brixton. Qui finisce La scelta del fantasma di Arthur Conan Doyle, letto da Rosanna Lia. Vi ringrazio per aver ascoltato questa storia fino alla fine. Se la mia compagnia è stata di vostro gradimento e la storia vi è piaciuta, per favore lasciatemi un like e un commento. A presto con una nuova bellissima storia. Dal passato, un racconto di Arthur Conan Doyle, legge Rosanna Lia. 3 gennaio. Questa revisione dei conti della White Waterspoon si sta rivelando un'impresa titanica. Ci sono venti grossi libri mastri da esaminare e controllare. Ecco cosa capita quando si è il socio più giovane in una ditta. Comunque, è la prima volta che mi viene affidato un vero e proprio incarico e debbo dimostrarmi all'altezza. Ma devo portarlo a termine, questo incarico, in modo che gli avvocati possano averne l'esito in tempo utile per il processo. Johnson ha detto stamattina che dovrò controllare tutto entro il venti del mese. Santo cielo! Beh, farò del mio meglio e, se la mente e il sistema nervoso resisteranno allo sforzo, me la caverò. Ciò significherà lavorare in ufficio dalle dieci alle diciassette e poi rimettermi al lavoro dalle venti all'una del mattino. Anche la vita di un contabile può essere drammatica. Quando nelle silenziose ore notturne, mentre tutto il mondo dorme, mi trovo intento a cercare accanitamente in una colonna dopo l'altra quelle cifre mancanti che trasformeranno un rispettabile assessore municipale in un delinquente. Capisco che la mia non è poi una professione tanto prosaica. Lunedì ho individuato la prima traccia di appropriazione indepita. Mai nessun cacciatore provò maggiore emozione scorgendo per primo le orme della preda. Guardo i venti libri mastri e penso alla giungla attraverso la quale dovrò inseguire la mia preda prima di poterla afferrare. Un duro lavoro, ma anche un'impresa eccitante in un certo senso. Ho avuto occasione di incontrare l'individuo in questione a una cena ufficiale. Ricordo il suo faccione rubicondo al di sopra del tovagliolo bianco. Stava guardando un ometto pallido seduto in fondo al tavolo. Anche lui sarebbe stato pallido se avesse saputo il compito che mi era stato affidato. 6 gennaio. Che assurdità da parte dei medici ordinare il riposo quando il riposo è fuori questione. Idioti. Tanto varrebbe gridare a un uomo inseguito da un branco di lupi che la cosa di cui ha bisogno è l'assoluta tranquillità. Devo concludere la verifica delle cifre entro una data precisa. Se non lo faccio perderò un'occasione unica e quindi come diavolo posso riposare? Mi prenderò una settimana di vacanza dopo il processo. Forse è stato sciocco da parte mia l'essere andato dal dottore, ma divento nervoso e iperteso quando sto seduto al tavolino di notte. Non si tratta di un dolore, ma di una specie di confusione in testa e ogni tanto di un annebbiamento della vista. Avevo pensato che forse del brunuro, della valeriana o qualcosa del genere avrebbero potuto giovarmi. Ma interrompere il lavoro? Assurdo pretendere una cosa simile. È come quando si partecipa a una lunga corsa. Dapprima ci si sente strani. Il cuore martella e i polmoni ansimano, ma se soltanto si ha la forza di tenere duro si riprende fiato. Continuerò a lavorare e aspetterò di riprendermi. Se non mi riprenderò, pazienza, continuerò ugualmente a lavorare. Due libri mastri sono finiti e il terzo è già a buon punto. Quel mascalzone ha nascosto bene le sue tracce, ma io lo scoprirò, nonostante tutto. 9 gennaio. Non avevo alcuna intenzione di tornare dal medico, eppure ho dovuto farlo. Sta compiendo uno sforzo eccessivo. Rischia un grave esaurimento nervoso, mette perfino in gioco la sua sanità mentale. Bella roba sentirsi dire una frase simile. Beh, resisterò allo sforzo e correrò il rischio. E fin tanto che sarò in grado di stare seduto su una sedia e di muovere la penna, seguirò le orme di quel vecchio furfante. A proposito, tanto vale che annoti qui la strana esperienza che mi ha spinto a recarmi dal medico per la seconda volta. Terrò un'esatta documentazione dei miei sintomi e delle mie sensazioni perché sono interessanti in se stessi. Un curioso studio psicofisico, dice il medico, e anche perché sono sicurissimo che quando li avrò superati mi sembreranno confusi e irreali, come uno strano sogno fatto nel dormiveglia. Così ora, finché sono freschi, li appunterò se non altro per distrarmi da quelle cifre interminabili. Nella mia stanza ho un antico specchio con la cornice d'argento. Mi è stato regalato da un amico appassionato di oggetti antichi, il quale a quanto pare lo aveva comperato a una vendita all'asta e non aveva la minima idea di dove provenisse. È un oggetto piuttosto grande, largo un metro e alto un'ottantina di centimetri, e mentre scrivo si trova alla mia sinistra, appoggiato alla parete e sopra una credenza. La cornice è piatta, larga circa sei centimetri e molto antica. Di gran lunga troppo antica per avere marchi di fabbrica o altri segni in base ai quali poter determinare la sua età. Lo specchio ne emerge con un bordo smussato e possiede quella qualità di riflettere le immagini in modo eccezionale, che si trova soltanto, secondo me, negli specchi di età venerabile. Specchiandovi si dà un senso di prospettiva come nessuno specchio moderno potrà mai dare. Lo specchio è sistemato in modo tale che quando sto al mio tavolo non riesco a vedervi altro se non il riflesso dei tendaggi rossi della finestra. Ma ieri sera è avvenuta una cosa strana. Stavo lavorando da parecchie ore, assai svogliatamente, con continui ritorni di quel disturbo alla vista cui ho già accennato. Più di una volta sono stato costretto a interrompere e a riposare gli occhi. Beh, in uno di quegli intervalli il caso ha voluto che guardassi lo specchio. Aveva un aspetto stranissimo. I tendaggi rossi che avrebbero dovuto esservi riflessi non si vedevano più, ma lo specchio pareva essere rannuvolato e coperto di vapore, non in superficie, poiché riluceva come l'acciaio, ma in profondità, nella sua stessa struttura. Questa opacità, mentre la fissavo intensamente, parve roteare lentamente, prima da una parte, poi dall'altra, fino a trasformarsi in una spessa nube bianca che turbinava in pesanti volute. Tanto l'immagine era reale e concreta, e tanto io ero in me, che ricordo di essermi voltato, convinto che i tendaggi avessero preso fuoco. Ma tutto nella stanza era mortalmente immobile. Nessun suono, tranne il ticchettio dell'orologio, nessun movimento, tranne il lento turbinare di quella strana, soffice nube profondamente radicata nel cuore dell'antico specchio. Poi, mentre guardavo il vapore o il fumo o la nuvola, in qualsiasi modo la si voglia definire, parve concentrarsi e solidificarsi in due punti piuttosto ravvicinati, e mi avvidi, con un brivido di interesse anziché di paura, che quei punti erano due occhi che guardavano nella stanza. Potevo intravedere anche il vago contorno di una testa, una testa di donna a giudicare dai capelli, ma quella parte restava nell'ombra. Soltanto gli occhi spiccavano. Ma quali occhi? Scuri, luminosi, colmi di un'emozione fortissima, furia o d'orrore. Mai ho visto occhi così pieni di vita intensa e fremente. Non erano rivolti su di me, ma guardavano fissamente nella stanza. Poi, quando mi raddrizzai, passandomi una mano sulla fronte e facendo uno sforzo su me stesso per dominarmi, la vaga figura scomparve nell'opacità. Lo specchio lentamente si schiarì e vidi nuovamente apparire i tendaggi rossi. Uno scettico direbbe indubbiamente che mi ero addormentato sulle mie cifre e che la mia esperienza era un sogno. A dire il vero, non sono mai stato così sveglio in vita mia. Ero in grado di discuterne perfino mentre guardavo quell'immagine e di dirmi che si trattava di un'impressione soggettiva, di uno scherzo dei nervi nato dalla preoccupazione o dall'insonnia. Ma perché proprio quella forma? E chi era quella donna? Qual è la terribile emozione che avevo letto in quei magnifici occhi castani? Essi si farpongono fra me e il mio lavoro. Per la prima volta sono venuto meno al compito quotidiano che mi ero prefisso. Forse è per questo che stasera non ho provato nessuna sensazione abnorme. Domani devo rimettermi al lavoro. Succeda quel che succeda. 11 gennaio. Tutto bene. Proseguo nel mio lavoro. Tendo la rete, un capo dopo l'altro, attorno a quel corpo massiccio. Forse però sarà lui a trionfare. Se i miei nervi si spezzeranno nella fatica. Lo specchio sembra essere una specie di parometro che segna la pressione nel mio cervello. Ogni notte ho notato che si è appannato prima che giungessi alla fine del mio compito. Il dottor Sinclair, che a quanto pare è un po' psicologo, si è talmente interessato al mio racconto che stasera è venuto a trovarmi per dare un'occhiata allo specchio. Avevo già notato che c'era qualcosa scarabocchiato sul retro della cornice, a caratteri antichi. Il medico li ha esaminati con una lente, ma non è riuscito a decifrarli. Sinc, decimo, palla. È ciò che ne ha ricavato. Ma questo non c'è stato di grande aiuto. Mi ha consigliato di mettere lo specchio in un'altra stanza, ma, dopo tutto, qualsiasi cosa io vi veda, lo ha ammesso lui stesso. È soltanto un sintomo. Il pericolo sta nella causa. I venti libri mastri e non lo specchio d'argento dovrebbero essere riposti, se solo potessi farlo. Sono già all'ottavo, quindi faccio progressi. 13 gennaio. Forse, dopo tutto, avrei fatto bene a portare altrove lo specchio. La notte scorsa mi ha procurato una straordinaria esperienza. Eppure lo trovo così interessante, così pieno di fascino, che continuerò ugualmente a lasciarlo al suo posto. Che cosa diavolo può significare tutto ciò? Doveva essere circa l'una, e io stavo chiudendo i libri in procinto di buttarmi sul letto quando vidi la donna lì, davanti a me. La fase di annebbiamento e di formazione doveva essere passata inosservata, e, improvvisamente, eccola là, in tutta la sua bellezza, passione e pena, così viva come se fosse stata davvero davanti a me in pelle e ossa. La sua figura era piccola ma molto netta, tanto che ogni suo lineamento e ogni particolare del suo abito sono impressi nella mia memoria. Seduta nella zona sinistra dello specchio, una figura indistinta e accovacciata accanto a lei, riesco a malapena a distinguere che si tratta di un uomo. Dietro a loro c'è una nuvola, nella quale vedo altre figure, figure in movimento. Non è semplicemente un quadro quello che vedo, è una scena vivente, un vero e proprio episodio. La donna si stringe le braccia, tutta fremente. L'uomo accanto a lei è rannicchiato in preda al terrore. L'interesse da me provato allontana ogni mia paura. Mi rende furioso il poter vedere tanto ma non di più. Posso almeno descrivere la donna fin nel più piccolo particolare. A mio giudizio è molto bella e piuttosto giovane e non può avere più di venticinque anni. I capelli sono di un bellissimo colore bruno con caldi riflessi castani che si tramutano in oro. Una piccola cuffietta aderente di trine bordate di perle le delimita la fronte. La fronte è alta, troppo alta forse perché la sua bellezza sia perfetta, ma non si potrebbe desiderare che fosse altrimenti poiché dà un tocco di autorevolezza e di forza un volto che altrimenti sarebbe forse troppo dolcemente femminile. Le sopracciglia formano un arco delicato al di sopra delle palpebre pesanti. Gli occhi sono stupendi, così grandi, così scuri, così colmi di un'incontrollabile emozione, di rabbia, di orrore, in lotta con la volontà di controllarsi che la trattiene dalla disperazione. Le guance sono pallide, le labbra sbiancate dall'agonia, il mento e il collo squisitamente tondeggianti. La figura seduta su una sedia si protende in avanti, tesa e rigida, folle di orrore. L'abito è di velluto nero, un gioiello le splende come una fiamma sul seno e un crocefisso d'oro arde cupo nell'ombra di una piega. Questa è la dama la cui immagine vive ancora nell'antico specchio d'argento. Quale mai potrà essere lo spaventoso fatto che ha lasciato lì la sua impronta, facendo sì che oggi, in un'altra epoca, non appena lo spirito di un uomo sia sufficientemente provato, egli possa essere consapevole della sua presenza? Ancora un particolare. In basso, sul lato sinistro dell'abito nero, vi era, o così mi parve a prima vista, un informe nodo di nastri bianchi. Poi, guardando con maggiore attenzione o forse definendosi più chiaramente la visione, capì ciò che era. Era la mano di un uomo, contratta e sbiancata dall'agonia, avvinghiata con una stretta convulsa alla piega dell'abito. Il resto della figura accovacciata era appena una vaga ombra, ma quella mano aggrappata spiccava chiaramente sullo sfondo scuro, con un sinistro senso di tragedia nel suo disperato gesto. L'uomo è spaventato, terribilmente spaventato. Questo lo distingo chiaramente. Che cosa lo ha terrorizzato a quel punto? Perché stringe l'abito della donna? La risposta sta nelle figure sullo sfondo. Esse sembrano creare del pericolo sia per lei che per lui. L'interesse di quella scena mi teneva avvinto. Non ho più pensato al suo rapporto con i miei nervi. Guardavo fissamente come fossi stato a teatro, ma non sono andato oltre. La nebbia si è diradata. Vi sono stati dei movimenti affannosi in cui tutte le figure si trovavano vagamente coinvolte. Poi ecco lo specchio di nuovo limpido. Il medico dice che devo smetterla di lavorare per un giorno e penso di poterlo fare perché ho proceduto a lacrimente negli ultimi tempi. È evidente che le visioni dipendono solo dalla condizione dei miei nervi perché stasera sono rimasto seduto per un'ora davanti allo specchio senza alcun risultato. La giornata di riposo ha scacciato ogni visione. Mi domando se riuscirò mai a comprendere appieno il loro significato. Stasera ho esaminato lo specchio con una buona luce. Accanto alla misteriosa scritta Sank X Pal. Sono riuscito a scoprire tracce di uno stemma araldico appena visibili sull'argento. Devono essere antichissime poiché sono quasi del tutto scomparse. Se ho decifrato bene, si tratta di tre punte di lancia, due in alto e una in basso. Le mostrerò al medico quando verrà domani. 14 gennaio. Mi sento nuovamente in forma e non intendo che qualcosa si frapponga fra me e il mio lavoro, almeno finché non avrò concluso. Ho mostrato al medico le scritte sullo specchio e lui è stato d'accordo nel sostenere che si tratta di uno stemma araldico. È estremamente interessato a tutto ciò che gli ho raccontato. Anzi, ha voluto che lui informassi su ogni particolare. Mi diverte notare come egli sia diviso fra due desideri contrastanti. Da una parte che il suo paziente guarisca dai sintomi, dall'altra che il medium, poiché tale mi considera, riesca a risolvere questo mistero del passato. Mi ha consigliato di mettermi a riposo, ma non si è ribellato troppo alla mia dichiarazione che un fatto simile è impensabile finché non avrò controllato i rimanenti dieci libri mastri. Diciassette gennaio. Per tre notti non ho avuto ulteriori esperienze. Il mio giorno di riposo ha dato i frutti sperati. Mi resta da fare soltanto un quarto del mio compito, ma si tratterà di una marcia forzata, poiché gli avvocati reclamano a gran voce il materiale. Ne avrò fin troppo di materiale da consegnare loro. Ne ho scoperte di belle sul conto di quel delinquente. Quando si renderanno conto di quanto sia infido e astuto quel mascalzone, dovrei ricavarne un certo prestigio. Fatture falsificate, bilanci alterati, dividendi attinti dal capitale, perdite segnate come guadagni, soppressioni di costi, giochetti con la piccola cassa. Un bel primato. 18 gennaio. Mal di testa, tic nervosi, annebbiamenti della vista, le tempie che mi scoppiano. Tutti i cenni premonitori di guai vicini e i guai non si sono fatti aspettare. Eppure il mio vero dispiacere non è tanto che la visione mi si presenti, quanto che si interrompa prima che tutto mi sia stato svelato. Ma stanotte ho visto di più. L'uomo accovacciato era altrettanto ben visibile quanto la dama alla cui veste si stringeva. È un uomo piccolo, di pelle scura, con una barba nera e appuntita, e indossa un'ampia veste bordata di pelliccia. Il colore predominante sul suo abito è il rosso. Com'è terrorizzato quel poveretto! Si rannicchia tutto tremante e guarda alle sue spalle con sguardo malevolo. Ha in una mano un piccolo pugnale, ma è troppo pavido e vile per servirsene. Ora comincio a distinguere vagamente le figure sullo sfondo. Volti feroci, barbuti e scuri prendono forma nella nebbia. Vedo un essere spaventoso, uno scheletro vivente, le guance incavate e gli occhi infossati nella testa. Anche costuia in mano un coltello. Un uomo alto, molto giovane, dai capelli biondi, dal volto torvo e duro, sta in piedi sulla destra della donna. La bellissima dama alza gli occhi verso di lui con sguardo supplice. Altrettanto fa l'uomo rannicchiato accanto a lei. Questo giovane pare essere l'arbitro del loro destino. L'uomo accovacciato si avvicina ancora di più alla donna, nascondendosi fra le sue gonne. Il giovane alto si china e tenta di strapparlo da lei. Tutto questo, visto stanotte prima che lo specchio ridiventasse limpido. Non saprò mai come finisce questa storia. Non si tratta di semplice immaginazione, di questo sono più che certo. Questa scena è accaduta in un luogo, in una determinata epoca, e l'immagine si è riflessa nell'antico specchio. Ma dove? Quando? 20 gennaio. Il mio lavoro sta per giungere alla fine, ed era ora. Sento una tensione, un senso di costrizione intollerabile che mi dice che qualcosa deve succedere. Ho lavorato fino allo stremo delle mie forze. Questa dovrebbe essere però l'ultima sera. Con uno sforzo supremo dovrei finire l'ultimo libro mastro e concludere il caso prima di alzarmi dalla sedia. Devo riuscirci. Ci riuscirò. 7 febbraio. Ci sono riuscito. Ma che esperienza. Non so ancora se le mie forze mi consentiranno di metterla per iscritto. Permettete che prima di tutto vi spieghi come stia scrivendo questi appunti nella clinica privata del dottor Sinclair, circa tre settimane dopo l'ultima annotazione del mio diario. La notte del 20 gennaio il mio sistema nervoso ha finalmente ceduto e non ricordo più nulla di quanto è accaduto in seguito. Finché non mi sono ritrovato qui, tre giorni fa, in questa casa di cura. Ora posso riposare con la coscienza in pace. Prima di crollare ho portato a termine il mio lavoro. Le mie cifre sono in mano agli avvocati. La caccia è finita. Adesso devo descrivere l'ultima nottata. Avevo giurato di finire il mio lavoro e mi ci dedicai con tanta costanza, benché mi sentissi scoppiare la testa che mi rifiutai cocciutamente di alzare gli occhi fin quando non avessi finito di controllare l'ultima colonna di cifre. Eppure era un'imposizione crudele, poiché sapevo che per tutto il tempo nello specchio stavano succedendo cose meravigliose. Me lo diceva ogni nervo del mio corpo, ma se avessi alzato gli occhi sarebbe stata la fine del mio lavoro. Non sollevai dunque lo sguardo finché non ebbi finito tutto. Allora, quando gettai la penna con la testa in fiamme, alzai gli occhi. Quale visione! Lo specchio nella sua cornice d'argento era una specie di palcoscenico meravigliosamente illuminato sul quale si stava svolgendo un dramma. Non vi era più nebbia. La tensione dei miei nervi aveva provocato questa stupefacente chiarezza. Ogni espressione, ogni movimento era nitido come in una scena di vita reale. Strano come io, uno stanco contabile, l'essere più prosaico della razza umana con davanti a me i libri mastri di un astuto delinquente, debba essere stato scelto fra tutti gli uomini per contemplare una simile scena. La scena era la stessa e uguali erano i personaggi, ma il dramma era progredito. Il giovane alto stava stringendo tra le braccia alla donna e lei cercava di sfuggire alla stretta e lo guardava con espressione d'odio. Avevano allontanato con la forza dalla donna l'uomo rannicchiato. Una dozzina di esseri selvaggi e barbuti lo circondavano. Lo stavano massacrando a colpi di pugnale. Pareva che lo colpissero all'unisono. Le loro braccia si alzavano e ricadevano e il sangue non sgorgava da lui. Zampillava! La veste rossa ne era tutta macchiata. Lui si gettava da una parte e dall'altra grondante di sangue, come una susina troppo matura. Eppure quelli continuavano a pugnalarlo e il sangue continuava a zampillare! Era orribile! Lo trascinarono verso la porta mentre lui tentava ancora di scalciare. La donna voltò la testa per guardarlo con la bocca spalancata. Non udivo nulla, eppure sapevo che stava urlando. Poi non so se per via della terrificante visione che mi stava di fronte o se invece per l'eccesso di fatica delle ultime settimane la stanza prese a girarmi intorno e il pavimento parve sprofondare sotto i miei piedi. Dopodiché non ricordo più nulla. L'indomani mattina, di buon'ora, la padrona di casa mi ha trovato steso, privo di sensi, davanti allo specchio d'argento, ma io stesso non ricordo altro finché non mi sono svegliato tre giorni fa nella pace assoluta della casa di cura del mio medico. 9 febbraio. Soltanto oggi ho raccontato al dottor Sinclair la mia esperienza. Finora non mi aveva permesso di parlare di questo argomento. Mi ha ascoltato con profondo interesse. «Lei non crede di poter identificare tutto questo con un noto episodio storico», mi ha chiesto con sospetto. «L'ho assicurato che non conoscevo la storia». «Non ha proprio idea dell'origine di quello specchio né a chi appartenesse una volta», ha continuato il medico. «E lei lo sa», ho chiesto a mia volta poiché la sua domanda mi era apparsa densa di significato. «È incredibile», ha detto Sinclair. «Eppure, come si può spiegarlo altrimenti? Le scene che lei mi aveva descritto precedentemente lo suggerivano, ma adesso le cose sono andate oltre ogni possibilità di coincidenza. Questa sera le porterò alcuni appunti». Ed ecco quanto mi disse quella sera. «Permettete che annoti le sue parole quanto più esattamente possibile». Esordì appoggiando vari volumi ammuffiti sul mio letto. «Questi li potrà consultare con suo comodo», mi ha detto. «Ho qui degli appunti che potrà controllare. Non vi ha alcun dubbio che ciò che lei ha visto è l'assassino dirizio da parte dei nobili scozzesi alla presenza della regina Mary, che avvenne nel marzo del 1566. La descrizione da lei fatta della donna è assai precisa. La fronte alta, le palpebre pesanti accoppiate a una grande bellezza difficilmente potrebbero riferirsi ad un'altra donna». Il giovane alto era suo marito, John Lee. «Rizio», dice la cronaca, «era vestito di un'ampia veste da camera bordata di pelliccia con calze di velluto color ruggine. Con una mano si aggrappava alla veste di Mary, con l'altra teneva un pugnale. L'uomo dall'espressione feroce e dagli occhi infossati era a Ruthvenna, appena rimessosi da una lunga malattia. Ogni particolare corrisponde. «Ma perché è capitato a me?» chiesi sconcertato. «Perché di tutti gli uomini è capitato proprio a me!» Perché lei era in una condizione mentale idonea a ricevere l'impressione, perché per puro caso possedeva lo specchio. «Lo specchio!» gridai. «Lei è dunque convinto che si tratti dello specchio della regina Mary, che si trovasse nella stanza dove successe il fatto storico!» «Sono convinto che si tratti dello specchio di Mary Stewart. Lei era stata regina di Francia. I suoi oggetti personali dovevano avere l'insegna reale. Ciò che lei ha scambiato per tre punte di lancia erano in realtà i gigli di Francia». «Ella scritta!» «Sanque X. Pal. Ma si può spiegare come Sante Crucis Palatium. Qualcuno ha segnato sullo specchio il luogo dove proveniva. Era il palazzo della Santa Croce». «Holyrood!» esclamai. «Precisamente. Il suo specchio proveniva da Holyrood. Lei ha vissuto un'esperienza unica ed è riuscito a liberarsene. Mi auguro che non si metta mai più in condizioni di doverne affrontare una analoga». Qui finisce, dal passato, un racconto di Arthur Conan Doyle, letto da Rosanna Lia. Se questo audio racconto è stato di vostro gradimento e la mia voce è una gradevole compagnia, per favore lasciatemi un like e un commento e possibilmente condividete sui vostri social in modo da aiutarmi a fare crescere ancora di più il mio canale. Un grande abbraccio dalla vostra Rosanna. A presto con una nuova bellissima storia. Il Monaco Nero. Un racconto di Gladys Gordon Penders. Legge Rosanna Lia. «Sì, è vero che sto dettando tutto questo. Ma non immaginate uno scrittore famoso, uno studio elegante, una segretaria ben retribuita. No, sto dettando tutto questo per la pubblicazione perché ho promesso all'abate di Shard che l'avrei fatto. Non posso andare contro i suoi desideri. Non posso più farlo». «Tutte menzogne e assurdità. Non ne creda una parola, signore. Loro hanno interesse a mantenere vive queste favole», disse il guardiacaccia indicando nella direzione del monastero che stava dietro di lui. «Così hanno potere sulla gente. Su quest'isola tutti credono al Monaco Nero e giurano di averlo visto a girarsi furtivo. Io non l'ho mai visto e perché? Perché non ho paura! Sono tutte stupidaggini, le dico. Stupidaggini!» Guardai Morton, gli occhi castani e profondi, la faccia rugosa, la figura alta e magra nel vecchio abito di Tweed, persino i calzettoni e il modo in cui teneva il fucile e portava il berretto e esprimevano disprezzo. Non aveva simpatia per i monaci e per nessuno degli abitanti dell'isola. Ci restava perché altrove non avrebbe trovato lavoro. Doveva tutto all'abate e lo odiava in misura proporzionale al suo debito. «Al monastero sono in grado di dimostrarlo», ribattei. «Hanno vecchi documenti. A quanto sembra qui fu sepolto un tesoro nel V secolo, quando gli angli conquistarono la Britannia. Fu portato da un monaco fedele che risalì il Tamigi dal Kent. Arrivo qui, seppellì il tesoro e morì sull'isola, montando di guardia fino alla fine. Sta ancora di guardia, sembra. Il tesoro e il guardiano sono fole per bambini e per gli stupidi che passano le giornate biassicando preghiere quando farebbero molto meglio a scavare, piantare e cerchiare questa dannata isola. Io sono l'unico che lavorava veramente qui. E in cambio, che cos'ho? Una casetta umida, una paga insufficiente e una predica del reverendo quando la cucina del monastero non viene rifornita di selvaggina secondo i suoi desideri. E quindi non ha mai visto il monaco nero? Insistetti. Non l'ha mai visto vicino al vecchio stagno o sull'erupio o sul viottolo lungo dopo il tramonto? No, e non lo vedrò mai. L'unico monaco nero sull'isola è su al monastero, quel tizio di colore delle indie occidentali. Non c'è nessuno più nero di frate Ignatius. Sembra un vero corvo, con la tonaca nera e la faccia nera e tutto il resto. Non che pensi che stia meglio in nero che in bianco come i benedettini di Shard. Però, dissi io, deve ricordare che certuni non riescono a vedere cose come... ecco, come il monaco nero. Come certuni non prendono certe malattie. Nessuno ha mai visto il monaco nero e nessuno lo vedrà mai. Perché? Perché non esiste sull'isola di Shard. I monaci tengono viva quella vecchia fola per spaventare la gente e convincerla ad andare a messa e a confessarsi. E poi ai visitatori piace. Se ne vanno in giro con gli occhi sgranati. Parlano e scrivono sui giornali. Ecco, è tutta pubblicità e serve a fare affluire il denaro. È tutto combinato. È un'assurdità, le dico. Lo lasciai al cancello e svoltai nel viottolo lungo. L'idea del contrasto tra morto nei monaci mi divertiva. Mi venne un'idea, nata dalla recente conversazione e dalla notte bellissima. Si stava alzando, grande e dorata, la luna della mietitura. Non c'era vento. La temperatura era mite, quasi calda per l'ottobre avanzato. Sarei rimasto all'aperto per tutta la notte, se fosse stato necessario, e avrei seguito il leggendario percorso del monaco nero, dalla baia dei pirati, dove si diceva fosse sbarcato, fino a un certo bosco, dove, secondo le dicerie popolari, aveva sepolto il tesoro. A quanto sembrava, nessuno aveva mai cercato di seguirlo. Nessuno voleva farlo. Una figura incappucciata era stata vista in vari punti del percorso. Scura sulle sabbie pallide della spiaggia, semiconfusa nelle ombre gettate dalle alte siepi del viottolo lungo, frettolosa contro il cielo nei campi arati, di sentinella accanto al vecchio stagno abbandonato e coperto di schiuma verde o mentre spariva nella petaia. La mia breve vacanza era quasi terminata. Avevo avuto quello che mi interessava, un resoconto della sacra rappresentazione della passione che i monaci davano ogni anno. Sarebbe bastato a pagarmi le spese. Una notte di vagabondaggi sull'isola romantica poteva ispirarmi un altro articolo. Accesi una sigaretta e mi diressi verso la spiaggia. Chard si stava già preparando ad addormentarsi. La luce rotante del faro divenne più brillante via via che le lampade si spegnevano dietro le finestre delle casette. Nel viottolo lungo, dove i noci facevano frusciare le foglie avvizzite, oltre l'ufficio postale e emporio che provvedeva alle necessità dell'isola. Sotto le mura del grande monastero bianco con torri e torrette, balconi e rintocchi di campane, i tetti rossi e i timpani aguzzi, giù verso le dune sabbiose dove le canne altissime si inclinavano mormorando nel chiaro di luna, verso la falce della baia dei pirati, dalla sabbia finissima macinata dalle onde, che adesso erano soltanto una sussurrante linea bianca, l'orlo del mare lontano. «Andavo, andavo! Chiedo scusa. Cercherò di frenarmi. Più tardi capirete perché mi è tanto difficile escludere da questo racconto lo sfondo incantato dell'isola in una notte supremamente bella. Allora potrete perdonare un povero diavolo che si era voltato a guardare un paradiso perduto. Sedetti su una barca capovolta e fumai e sognai, lasciando che la lunga strana storia dell'isola di Shard fluttuasse sulla mia mente come un ciuffo d'alghe su uno stagno. Un'ora, due ore, non so per quanto tempo restai là seduto. Alla fine il mio accendino si scaricò. Non avevo fiammiferi e la ricerca mi strappò alle mie fantasticherie. Mi sentivo irrigidito e avevo piuttosto freddo. «Bene, sei in ritardo se vuoi sbarcare questa notte, vecchio mio!». Parlai a voce alta e mi voltai a guardare le rocce spezzate che formavano un corno ricurvo della spiaggia lunata. Per un momento una sensazione strana mi paralizzò. Credetti davvero per un istante che l'assurda leggenda fosse vera. Una figura nera e incappucciata girava le rocce. Veniva verso di me. Confesso che non mi mossi perché non potevo, letteralmente. Quando finalmente vidi chi era, il sollievo fu così enorme che sbottai. «Frate Ignatius, parola mia, sa che l'avevo scambiata per il monaco nero! L'ho visto al chiaro di luna, enorme come lo spauracchio di una favola!». La voce liquida e gentile del frate delle Indie occidentali fu il suono più amichevole che avessi mai udito. «Non dovrebbe essere qui», mi rimproverò. Il padre Abate non sarebbe contento. In un certo senso lei è ospite del monastero che governa l'intera isola. «Sono soltanto un eretico», risposi ridendo troppo forte. Il suono strideva su quella spiaggia silenziosa e solitaria. «Immagino che agli occhi dell'abate la mia anima sia comunque perduta». «Sì», ammise frate Ignatius. Mi irritai irrazionalmente. «Oh beh, vivi e lascia vivere», murmurai. Avevo ancora i nervi scossi e la mia lingua si agitava come una campanella. Qualche volta è difficile capire che cosa significa. È difficile a volte dire che cos'è la vita e che cos'è la morte. Non mi ero mai accorto che quel tipo fosse tanto irritante. Prima mi era sempre stato piuttosto simpatico. Adesso ero infastidito. Le sue banalità avevano rovinato l'incanto della notte. «Sta andando al monastero, immagino. Resterò qui a occhiare per un'oretta ancora. Buonanotte». «Non da solo. No, davvero. Qui non sarebbe al sicuro. Il monaco nero...» «Sono qui per questo», dissi interrompendolo. «Lo sto aspettando. Se e quando si mostrerà lo seguirò e scoprirò il segreto del suo tesoro». Lei non capisce. Frate Ignatius era sinceramente turbato. È molto pericoloso per lei. Feci un gesto spazientito e mi voltai per allontanarmi. Se ci tiene tanto...» Le sue parole risuonarono lente ed esitanti. «Se è spazio». «Allora?» Alzai gli occhi e scorsi il luccichio dei denti bianchi quando le labbra si schiusero in un sorriso nell'ombra del cappuccio. «Credo che il padre Abate mi perdonerà, poiché lei è, in un certo senso, suo ospite. Sì, glielo mostrerò. La condurrò al luogo dove è sepolto il tesoro». «Cosa?» «Sì, la condurrò là», mormorò il monaco. «Ma il tesoro non esiste. È solo una vecchia fola. Cosa vorrebbe dire?» «Il tesoro esiste. Un tesoro splendido», affermò sottovoce frate Ignatius. «E piuttosto che lasciarla qui da solo, glielo mostrerò». Cominciavo a dubitare che il mio compagno fosse pazzo. Non sapevo di cosa stesse parlando. La mia fantasia giornalistica incominciò a intessere un nuovo articolo. «Bene, perché non andare con lui?» Mi era passata la voglia di vagabondare in solitudine sotto il chiaro di luna. Avrei assecondato frate Ignatius. Ora si chinava verso di me, apparentemente deciso. «Facciamo come vuole», dissi. «La sua idea potrebbe salvarmi da un raffreddore, se non dal suo amico, il monaco nero. A proposito, se lo trovassimo al lavoro, intento a sorvegliare il tesoro». «No, non lo vedrà là. Non lo vedrà se sarà con me». La risposta pronunciata in tono grave e l'aria con cui si volse per avviarsi tra le dune colpirono la mia fantasia. Con il lungo mantello che ondeggiava e sci gonfiava nel vento, frate Ignatius mi precedeva di qualche passo. Con la veste giusta, pensai, riscatte il movimento dalla banalità. Mi sembrava di vedere me stesso, con l'abito sportivo e il berretto. Una figura estranea su quella solitaria, incantevole spiaggia inargentata. Vedevo il monaco come un albero e i cui rami scuri spazzavano il suolo come un'onda che si innalzava e si abbassava. Parte della terra, posseduto dalla terra e possessore della terra. «Devo avere la febbre», mi dissi. «Se scrivessi una stupidaggine del genere nel mio pezzo mi incaricheranno di occuparmi dei fumetti». Una nuova idea mi colpì. Non avevo mai incontrato nessuno in giro a quest'ora. Non ci sono regolamenti. Credevo che il monastero vi chiudesse tutti nelle celle la notte. Eravamo arrivati alle alte scogliere coperte d'erica sopra la baia dei pirati. Frate Ignatius continuava a precedermi. La sua risposta mi giunse portata dal vento, la testa incappucciata si volse verso di me e scorsi di nuovo il bagliore del sorriso gentile. «Dimentica le settimane del ritiro». Indicò con un gesto un solitario edificio di legno, lontano un centinaio di metri. «Ma certo, avevo dimenticato. Però, se è in ritiro, sicuramente ora sta violando le regole, stando qui con me». Il padre Abate anteporrebbe la sua sicurezza alle regole. Naturalmente ciò significa che il mese di solitudine deve ricominciare. Ma era necessario. Niente altro avrebbe potuto allontanarla da quella spiaggia pericolosa se non la mia promessa di guidarla al tesoro. Mi sentivo a disagio. L'abate era stato cortesissimo con me. Mi aveva concesso molti piccoli privilegi. Mi aveva permesso di andare dove era vietato alla maggior parte dei visitatori. Disturbare le osservanze religiose del suo ordine era un pessimo modo di ricambiare le sue premure. Poi scacciai gli scrupoli. Non credevo alla leggenda e pensavo che non ci credesse neppure l'abate. Frate Ignatius aveva infranto il ritiro per salvarmi da un pericolo inesistente. Aveva insistito su quella spedizione fantastica e, insomma, era un po' matto. Mi assolsi da ogni irresponsabilità e lo seguì. Giungemmo finalmente a un fitto boschetto tra la punta del falco e la pinna dello squalo. Due crudeli masse di roccia che sporgevano dal mare dove molte navi avevano fatto anticamente naufragio. Il monaco si fermò ad aspettarmi. «Si aggrappi al mio mantello», consigliò. «Il sentiero è stretto, ma lo conosco spanna a spanna. Non cadrà se mi seguirà esattamente». Sotto le mie dita il mantello era ruvido e asciutto come una corteccia. Ci addentrammo nel bosco. Il buio era fitto, il sentiero era pianeggiante, ma non fineva mai. Dopo un po' protestai. «Stiamo camminando in cerchio. Il bosco è abbastanza piccolo da attraversarlo in cinque minuti». Frate Ignatius si fermò. «Siamo arrivati. Si sieda. Sieda sul muschio e riposi». Mi lasciai cadere a terra, stanco, come se avessi fatto il giro del mondo. Qualcosa immensamente pesante, freddo e rotondo, venne posto tra le mie mani. «Che cos'è? Sembra una corona. Come pesa. Ma non vedo niente. Come posso sapere se è oro o piombo?» «Oro. Oro puro». Frate Ignatius parlava in tono reverente. «E qui ci sono piatti, calici e scettri. Qui ci sono candelieri. Questa è una grande croce gemmata e per scolpirla un artigiano impiegò tutta la vita. Anche questa è tempestata di gemme. È una piccola lampada da altare, una reliquia preziosissima nonostante le dimensioni». Uno dopo l'altro gli oggetti mi venivano messi nelle mani, mentre la voce tranquilla del monaco ne esaltava la bellezza. Tastai la piccola pesante lampada e l'esasperazione mi invase. «Ma è inutile!» esclamai. «È assurdo brancolare così nel buio. Voglio vederli!» Mi alzai all'improvviso. Mi sentii sdrucciolare e tesi le braccia per sostenermi. Chiamai bruscamente. Il mantello del monaco sfiorò le mie mani protese. Cercai di afferrarlo. Scivolai di nuovo. Poi caddi in avanti, urtando con violenza la fronte contro un tronco d'albero. Ripresi i sanzi lentamente, la tenebra come una muraglia di velluto nero mi circondava. Tenebra e tepore. Prima il bosco mi era sembrato umido e freddo. Ero orribilmente confuso. Da ogni parte le mie mani incontravano arbusti e rovi. Era impossibile trovare una direzione in quell'oscurità assoluta. «Dov'è?» gridai. «Dov'è?» «Ehi! Ehi! Ehi là! Frate Ignatius! Dov'è?» Continuai a gridare. La collera e il crescente calore del bosco buio servirono almeno a riscaldare il mio corpo intirizzito. Mi infuriai ancora di più. Il monaco doveva essere completamente matto. Perché nessuno mi aveva avvertito? Forse non volevano screditare il monastero. Esausto, affamato e assetato, graffiato dalle spine, alla fine restai immobile e gridai fino a sgolarmi. Quando finalmente una voce mi rispose ero quasi crollato. Avevo voglia di scoppiare in lacrime. Era il guardacaccia Morton. «Si è fatto male, signore?» Mi cinse le spalle con il braccio robusto e mi aiutò ad alzarmi. «Mi porti fuori da questo maledetto bosco, Morton!» Esclamai. «Sono qui da ore! Mi ci ha condotto quel monaco matto, frate Ignatius! Sono stato un idiota a seguirlo, ma non sapevo che era pazzo!» Morton non rispose, ma sentì il suo braccio irrigidirsi. «Mi porti fuori dal bosco, ha sentito?» L'oscurità stava diventando una tortura. «Mi porti fuori e dopo le spiegherò! Non voglio passare qui il resto della notte!» «Non è in un bosco!» La voce di Morton era soffocata, indistinta. «È in un tratto di ginestre spinose, su un promontorio dietro l'isola. Sono venuto a caccia di conigli e l'ho sentita urlare. «Ma è buio! È ubriaco, Morton! È ubriaco! È buio! È notte fonda!» «Sono le otto del mattino, signore, e c'è il sole!» «È ubriaco! Mente! È buio! Buio pesto!» Poi sentì cantare le allodole, sentì la campana del monastero che suonava le otto, il trillo degli insetti tra l'erba, il mugito del bestiame. Finalmente compresi la verità. Ero cieco. «Signore!» La voce di Morton mi giungeva da molto lontano. «Non può avere visto frate Ignatius questa notte? Ha lasciato l'isola ieri l'altro, con frate Steven e il priore. Li ho portati io a terra con la barca. Qui non arriva e non parte nessuno se non lo porto io. E torneranno fra un mese.» «È ubriaco! Vergognosamente ubriaco!» Ormai parlavo per scacciare i miei pensieri. «Nessun altro monaco qui porta il saio nero tranne frate Ignatius! Come avrei potuto scambiare il saio bianco dei benedettini per uno nero! Le dico che sono rimasto per ore con frate Ignatius! L'ho riconosciuto! La voce e il sorriso! Era frate Ignatius!» Morton non discusse. Mi accompagnò al monastero. L'abate ascoltò il mio racconto. «Il tesoro è sepolto sull'isola, certo! Il suo tono, lento e solenne, mi agghiacciò. Ma non è stato, frate Ignatius, quello che hai incontrato sulla spiaggia dei pirati.» «Ma, ma, balbettai, le dico che l'ho visto! Ho parlato con lui! Ho camminato con lui per un'ora almeno!» «Il monaco che hai incontrato è colui che da secoli custodisce il tesoro! Un astuto, antico guardiano!» «No, no, no!» mormorai. «Non esiste! Ho incontrato un uomo! Un uomo come tutti gli altri!» «Ha incontrato il monaco nero dell'isola di Shard, per la cui anima tormentata io prego sempre! E anche per lei, nella tenebra e nella disperazione! Anche per lei imploro la liberazione, figlio mio!» Qui finisce Il monaco nero, di G.G. Penders, pubblicato nell'ottobre del 1938 con il titolo originale The Black Monk. Se questo racconto è stato di tuo gradimento e la mia voce è stata per te una piacevole compagnia, per favore lasciami un like e un commento. E se ti fa piacere, condividi questo video sui tuoi social, in modo tale da permettere al mio canale di arrivare a un pubblico sempre più ampio. Grazie, un grande abbraccio e alla prossima! Da Rosanna Lea! Non avevo niente da fare ed ero entrato in una di quelle botteghe di curiosità o di bric-a-brac, come si dice nel dialetto parigino, del tutto incomprensibili al resto dei francesi. È certamente capitato anche a voi di gettare uno sguardo attraverso la vetrina in uno di questi negozi che sono diventati sempre più numerosi da quando si è diffusa la voga di acquistare mobili d'antiquariato, tanto che anche l'ultimo degli impiegati di banca sente l'obbligo di avere la propria camera medievale. Sono luoghi che stanno a metà fra la bottega del Robi Vecchi, il deposito del tappeziere, il laboratorio dell'alchimista e lo studio del pittore. Antri misteriosi nei quali le persiane socchiuse lasciano penetrare soltanto una penombra discreta, e nei quali l'unica cosa davvero antica è la polvere. Le tele di ragno che li adornano sono più autentiche dei merletti esposti, e il vecchio mobile di Pero è più giovane di quello di Mogano arrivato ieri dalle Americhe. Da questo punto di vista il negozio del mio mercante di Bricabrac era un'autentica Babilonia. Pareva che in esso tutti i secoli e tutti i paesi avessero deciso di darsi convegno. Una lucerna etrusca di coccio era poggiata su un cassettone di bull dei pannelli d'ebano ornati da severi arabeschi di rame. Una diuscese Luigi XV allungava con aria non curante i piedini da cerbiatta sotto un pesante tavolo Luigi XIII dalle grevi volute di quercia e le complesse incisioni in cui si intrecciavano fronde e chimere. Un'armatura ageminata di fattura milanese faceva risplendere in un angolo il ventre della corazza a bande metalliche. Cupidi e minfe di porcellana, grottesche statuine cinesi, calamai di smalto verde pallido, tazze di sassonia e antichità di sevre ingombravano ripiani e scaffali. Sulle scansie dentellate degli espositori brillavano enormi vassoi giapponesi dai filetti d'oro e ornati di disegni rosa e celesti, accanto a smalti di Bernard Palissy raffiguranti serpi, rane e lucertole in rilievo. Dagli armadi spalancati piovevano cascate di sete damascate d'argento e fiumi di broccati che un esitante raggio di sole cospargeva di punti luminosi. Ritratti d'ogni epoca sorridevano sotto le loro patine gialle chiusi in cornici più o meno scolorite. Il mercante seguiva con attenzione il mio tortuoso girovagare fra i mobili accatastati controllando con la mano che le falde ondeggianti del mio soprabito non facessero danni e sorvegliando l'agitarsi dei miei gomiti con l'attenzione apprensiva dell'antiquario e dell'usuraio. Quell'uomo aveva un volto davvero singolare, una testa enorme, liscia come un ginocchio, aureolata di radi capelli bianchi che facevano risaltare il colore rosa salmone della pelle conferendogli una falsa aria di placido paternalismo, subito smentita dallo scintillio degli occhietti giallastri che tremolavano nelle orbite come due luigi d'oro galleggianti sull'argento vivo. Il naso aquilino era di ascendenza levantina o ebraica. Le mani, magre e sottili, solcate da vene e nervi sporgenti come corni di violino, avevano unghie ricurve ad artiglio come quelle che sporgono dalle ali membranose dei pipistrelli ed erano agitate da un continuo movimento senile, inquietante a vedersi. Ma pur soggette a tali contorsioni nervose, quelle mani diventavano salde più di pinze d'acciaio e che le di granchio mentre sollevavano un oggetto di pregio, una coppa donice, un calice veneziano o un vassoio di cristallo boemo. Quel vecchio furbone aveva un'aria così inequivocabilmente rabbinica e cabalistica che tre secoli fa sarebbe finito sul rogo per null'altro che il suo aspetto. Non vuole dunque comprare niente oggi, signore? Guardi questo crismalese, alla lama ondulata come una lingua di fiamma. Osservi questi canaletti che servivano a fare gocciolare il sangue, queste dentellature fatte alla rovescia per lacerare le viscere quando si ritira il pugnale. È un'arma micidiale di eccellente qualità che figurerebbe splendidamente nella sua collezione. Questa spada a doppio taglio, poi, è molto bella. È di Joseph de la Herat. E questa Cochelimard dalla guardia traforata è un pezzo magnifico. No, non ne posso più di armi e di strumenti da macellaio. Vorrei una statuina, un oggetto che potesse servirmi da fermacarte, perché odio tutti quei bronzi dozzinali che vendono i cartolai e che si vedono su tutte le scrivanie. Frugando fra le sue anticalie, il vecchio sciorinò un fiume di bronzi antichi o sedicenti tali, pezzi di malachite, piccoli idoli in duo cinesi, oggetti simili a misirizzi di Giada, incarnazioni di Brahma o di Visnu, ideali per l'uso ben poco sacrale di tenere fermi giornali e lettere. Esitavo fra un drago di porcellana cosparso di verruche con le fauci aperte sulle zanne appuntite e un piccolo feticcio messicano decisamente orribile che rappresentava realisticamente il dio Huitzilopochtli, quando scorsi un piede incantevole che in un primo momento scambiai per il frammento di una venere antica. Era di una bella tinta fulva e ramata, come quella che conferisce al bronzo fiorentino il suo aspetto caldo e vivido, di gran lunga preferibile al colore verde rame dei bronzi ordinari, troppo simili a statue putrescenti. Riflessi splendenti palpitavano su quel pezzo che sembrava levigato dai baci d'amore di venti secoli. Doveva essere certamente un bronzo di Corinto, un'opera del periodo aureo, forse di Lisippo. «Questo piede è ciò che fa per me», dissi al mercante che mi guardava con aria ironica e sorniona, tendendomi l'oggetto richiesto perché potessi esaminarlo meglio. Mi sorprese la sua leggerezza. Capì che non era un piede di metallo, bensì di carne, un piede imbalsamato, il piede di una mummia. Guardandolo bene si potevano distinguere la grana della pelle e i sottilissimi rilievi disegnati dal tessuto delle bende. Le dita erano fini, delicate, le unghie perfette, pure e trasparenti come l'agata. L'alluce un po' staccato formava un armonioso contrasto con le altre dita secondo lo stile antico e conferiva al piede un aspetto naturale, un'agilità da piede d'uccello. Dalla pianta appena attraversata da qualche impercettibile solco appariva chiaramente che non aveva mai toccato terra, limitandosi a calpestare le delicate stuoie di giunchi del Nilo e i morbidi tappeti di pelle di pantera. «Ah, lei dunque vuole il piede della principessa Hermontis», disse il mercante con uno strano sogghigno mentre mi fissava con i suoi occhi da civetta. «Per usarlo come fermacarte, un'idea originale, da artista. Se qualcuno l'avesse detto al vecchio faraone che il piede della sua figlia adorata sarebbe servito da fermacarte, l'avrebbe lasciato di stucco. Ai suoi tempi fece scavare una montagna di granito per mettervi la triplice bara dipinta e laminata d'oro, tutta coperta di geroglifici e di splendide raffigurazioni del giudizio delle anime», aggiunse a mezza voce, quasi parlando a sé stesso l'insolito mercante. «Quanto vuole per questo frammento di mummia?» «Il prezzo più alto possibile, visto che si tratta di un pezzo unico. Se avessi anche l'altro non lo pagherebbe meno di 500 Luigi. La figlia di un maraone! Una rarità incredibile!» «Riconosco che non è una cosa comune, ma quanto ne vuole in definitiva. L'avverto peraltro che tutte le mie ricchezze ammontano a 5 Luigi. Comprerò tutto quello che costa 5 Luigi, ma niente di più. Anche se frugasse nelle tasche posteriori dei miei pantaloni e dei miei cassetti più segreti non troverebbe il becco di un quattrino. 5 Luigi per il piede della principessa Hermontis sono davvero pochi. Troppo pochi, in verità, per un piede autentico», obiettò il mercante scuotendo il capo e facendo ruotare le pupille. «Ma glielo cedo lo stesso, e in più le regalo anche l'involucro», soggiunse avvolgendolo in un telo di Damasco. «Bellissimo, vero Damasco, Damasco delle Indie, che non è mai stato ritinto. Un tessuto forte, morbido». Borbottava, lisciando con le dita la stoffa logora, fedele a quell'istinto commerciale che gli faceva lodare anche un oggetto di così scarso valore da poter essere regalato. Infilò le monete d'oro in una specie di borsello medievale che gli pendeva dalla cintura, e intanto continuava a ripetere. «Il piede della principessa Hermontis, servire da fermacarte». Poi, fissandomi con le sue pupille fosforescenti, mi disse con una voce simile al miagolio di un gatto che ha ingoiato un alisca. «Il vecchio faraone non ne sarà contento». Amava molto la figlia, quel bravo uomo. «Ne parla come se fosse un suo contemporaneo». «Anche se lei è vecchio, non mi dica che è nato al tempo delle piramidi d'Egitto», risposi ridendo dalla soglia della bottega. «Tornai a casa felicissimo del mio acquisto. Per consegnarlo subito alle sue funzioni, posai il piede della divina principessa Hermontis su un fascio di carte. Bozze diversi, indecifrabili mosaici di cancellature, articoli iniziati e mai finiti, lettere dimenticate e impostate nel cassetto, cosa tipica dei distratti. L'effetto era suggestivo, bizzarro e romantico. Soddisfattissimo di quel tocco ornamentale nel mio studio, uscì e andai a passeggiare con la serietà e la fierezza che si addicono a una persona che ha l'incomparabile vantaggio su tutti gli uomini che incontra, di possedere un pezzo della principessa Hermontis, la figlia di un faraone. Trovavo inguaribilmente ridicoli tutti coloro che non possedevano, come me, un fermacarte così palesemente egizio, e mi pareva che ogni uomo sensato dovesse darsi da fare per avere un piede di mummia sulla propria scrivania. L'incontro con alcuni amici mi distolse, per fortuna, dall'esaltante pensiero del nuovo acquisto. Andai a cena con loro, giacché mi sarebbe stato difficile pranzare in compagnia di me stesso. La sera, tornato a casa con il cervello un po' annebbiato, un vago sentore di profumo orientale mi stuzzicò delicatamente le nari. Il caldo della mia camera aveva intiepidito il natron, il bitume e la mirra in cui i paraschisti, ovvero i dissezionatori di cadaveri, avevano immerso il corpo della principessa. Era un profumo dolce e penetrante, un profumo che quattromila anni non erano riusciti a fare evaporare. Il sogno dell'Egitto era l'eternità. Le sue essenze hanno la solidità del granito e durano altrettanto. Ben presto bevi a gransorsi dalla nera coppa del sonno. Per un'ora o due tutto restò opaco, mentre l'oblio e il nulla mi sommergevano nelle loro onde cupe. Poi il buio della mente si illuminò e i sogni presero a sfiorarmi con il loro volo silente. Gli occhi dell'anima si aprirono e vidi la mia camera così com'era effettivamente. Avrei potuto quasi pensare di essere sveglio, ma una vaga percezione mi diceva che dormivo e che stava per accadere qualcosa di straordinario. L'odore della mirra si era fatto più intenso e avvertivo un leggero mal di testa che peraltro attribuivo buona ragione ai bicchieri di champagne che avevamo bevuto per brindare agli dei sconosciuti, ai nostri futuri successi. Guardavo la mia camera con un senso di attesa che nulla pareva giustificare. I mobili erano tutti al loro posto, la lampada ardeva sulla console con la luce delicatamente smorzata dal candore latte o del suo globo di cristallo smerigliato, gli acquarelli luccicavano sotto il vetro di Bohemia, le tende ricadevano in languide, tutto aveva un'aria addormentata e tranquilla. Ma in pochi istanti quell'interno così calmo parve turbarsi. Il legno prese a scricchiolare furtivamente e dal ciocco sepolto sotto la cenere nel camino sprizzò all'improvviso un gas azzurrastro, mentre i dischi degli attaccapanni sembravano occhi di metallo attenti come me a ciò che stava per accadere. Il mio sguardo si posò casualmente sul tavolo dove avevo poggiato il piede della principessa Hermontis. Invece di rimanere immobile come dovrebbe essere un piede imbalsamato da quaranta secoli, esso si agitava, si contraeva e saltellava sulle carte come una rana spaventata. Pareva mosso da una pila elettrica. Sentivo chiaramente il rumore secco che faceva il suo piccolo tallone, duro come uno zoccolo di gazzella. Ero piuttosto irritato nei confronti del mio acquisto, dato che i fermacarte mi piacevano sedentari, e trovavo assai poco edificante vedere i piedi andare in giro senza gambe. Cominciavo poi a provare qualcosa che somigliava decisamente allo spavento. A un tratto vidi muoversi una piega delle tende e avvertì uno scalpiccio come se qualcuno saltasse su un solo piede. Devo confessare che provai alternativamente caldo e freddo, che sentii un vento gelido soffiarmi alle spalle e che i miei capelli, drizzandosi, fecero schizzare più in là di qualche passo alla papalina da notte. Poi le tende si aprirono e vidi venire avanti la figura più strana che si possa immaginare. Era una fanciulla scura di pelle come la bagliadera Amani, di una bellezza perfetta che ricordava la più pura razza egizia. Gli occhi erano deliziosamente a mandorla con gli angoli in su e le sopracciglia talmente nere da parere blu. Il naso era delicato, di una finezza greca. Si sarebbe potuto scambiarla per un bronzo di corinto, se gli zigomi sporgenti e la turgida bocca africana non avessero denunciato in lei, senza ombra di dubbio, quella razza delle rive del nilo rappresentata nei geroglifici. Cerchietti di metallo e di vetro ne ornavano le braccia sottili e affosolate tipiche delle fanciulle giovanissime. I capelli erano pettinati a treccine e sul petto nudo le pendeva un idolo di pietra verde, che la frusta con le sette code permetteva di identificare come Iside, la conduttrice delle anime. Una piastra d'oro le scintillava sulla fronte e sotto l'incarnato bronzeo appariva ancora qualche traccia di belletto. Il suo costume era molto strano. Immaginate un perizoma di bende ornate di geroglifici neri e rossi. Le bende erano indurite dal bitume e avevano l'aria di appartenere a una mummia da poco liberata dalle fasce. Saltando da un pensiero all'altro, come capita nei sogni, sentii la voce rauca e stridula del mercante di bricca che ripeteva, come in un monotono ritornello, la frase che aveva detto nella bottega con un'intonazione così enigmatica. Il vecchio faraone non ne sarà contento. Amava molto la figlia, quel bravo uomo. Particolare strano e ben poco rassicurante, l'apparizione aveva un piede solo, l'altra gamba era truncata all'altezza della caviglia. Si diresse verso la scrivania sulla quale il piede di mummia si agitava irrequieto e sempre più veloce, quindi si appoggiò al bordo e vidi a loro una lacrima spuntare e brillarle negli occhi. Benché non parlasse, intuivo chiaramente il suo pensiero. Guardava il suo piede, giacché era certo proprio il suo, con un'espressione di tristezza civettuale ed una grazia infinita. Ma il piede saltava e correva qua e là come spinto da molle d'acciaio. Due o tre volte tese la mano per afferrarlo senza riuscirvi. Si stabilì allora tra la principessa Hermontis e il suo piede, che pareva dotato di vita propria, un dialogo singolare in un copto molto antico, come lo si parlava una trentina di secoli fa nelle tombe ipogee del paese di Serre. Per fortuna quella notte capivo il copto alla perfezione. La principessa Hermontis stava dicendo con voce dolce e vibrante come una campanella di cristallo. Allora, mio caro piedino, non continuare a sfuggirmi. Ricorda che io avevo molta cura di te. Ti lavavo con l'acqua profumata in una bacinella d'alabastro. Ti levigavo il tallone con la pietra pomice intrisa d'olio di palma. Ti tagliavo le unghie con pinzette d'oro e te le lucidavo con un dente di ippopotamo. Sceglievo per te delle morbide tabeps ricurve, ricamate e dipinte che facevano invidia a tutte le fanciulle egiziane. All'alluce portavi anelli ornati con lo scarabeo sacro e sostenevi uno dei corpi più leggeri che possa augurarsi a un piede pigro. Il piede rispose in tono scontroso e afflitto. Sai bene che non ti appartengo più. Sono stato comprato e pagato. Quel vecchio mercante sapeva benissimo ciò che faceva e ce l'ha ancora con te perché hai rifiutato di sposarlo. Così ha finito per giocarti un tiro. L'arabo che ha forzato la tua bara nel pozzo sotterraneo della necropoli di Tebe l'aveva mandato lui. Voleva impedirti di andare al convegno degli abitanti delle tenebre, nella città degli inferi. Hai cinque monete d'oro per ricomprarmi? Ahimè no, non ho più le pietre preziose, gli anelli, le borse piene d'oro e d'argento. Mi hanno rubato tutto, rispose la principessa Hermontis con un sorriso. Principessa, esclamai allora, non mi sono mai tenuto ingiustamente il piede di nessuno. Anche se lei non ha i cinque luigi d'oro che mi è costato, glielo restituisco di tutto cuore. Sarei disperato se dovessi rendere zoppa una creatura adorabile come la principessa Hermontis. Fece il mio discorsetto con un tono da poeta stile reggenza che probabilmente sorprese la bella egiziana. Il suo sguardo si volse su di me pieno di una riconoscenza che illuminò i suoi occhi di bagliori azzurri. Prese il piede che stavolta si lasciò afferrare come una donna si accinga a calzare uno stivaletto e se lo applicò alla gamba con grandi abilità. Terminata l'operazione, fece due o tre passi per la camera come per essere certa di non soppicare più. Ah, come sarà felice mio padre che era così afflitto dalla mia mutilazione e che dal giorno della mia nascita aveva messo al lavoro un intero popolo perché mi scavasse una tomba tanto profonda da conservarmi intatta fino al giorno supremo in cui le anime devono essere pesate sulla bilancia della menti. Venga con me da mio padre, l'accoglierà con favore poiché mi ha restituito il piede. Trovai la sua proposta assolutamente naturale. Indossai la mia vestaglia a fiorami che mi dava un'aria molto faraonica, mi infilai in fretta delle babbucce turche e dissi alla principessa Hermontis che ero pronto a seguirla. Prima di partire, Hermontis si tolse dal collo la figurina di pietra verde e la posò sui fogli che coprivano il tavolo. È giusto che sostituisca il fermacarte? Per un certo tempo filammo rapidi come frecce in un'atmosfera fluida e grigia, dove sagome appena distinguibili ci oltrepassavano a destra e a sinistra. Per un attimo non scorgemmo che acqua e cielo. Qualche minuto dopo cominciarono a spuntare obelischi e all'orizzonte si delinearono immensi portali e rampe fiancheggiate da sfingi. Eravamo arrivati. La principessa mi condusse davanti a una montagna di granito rosa con un'apertura stretta e bassa che a stento si distingueva dalle fessure della pietra e che due steli scolpite rendevano riconoscibile. Hermontis accese una torcia e si mise a camminare davanti a me per gallerie aperte nella roccia viva. Le pareti, coperte di pannelli con geroglifici e processioni allegoriche, dovevano aver dato lavoro a migliaia di braccia per migliaia di anni. I corridoi, di una lunghezza interminabile, conducevano a stanze quadrate con al centro pozzi profondi nei quali scendemmo per mezzo di lunghe rampe o di scale a spirale. I pozzi finivano in altre stanze da cui si dipartivano altri corridoi, anch'essi adorni di sparvieri, serpenti arrotolati, hank, scettri, bari mistici. Lavoro prodigioso che nessun occhio umano doveva vedere, incommensurabili leggende di granito che solo i morti avevano tempo di leggere nel corso dell'eternità. Entrammo infine in una sala così ampia, così enorme, così smisurata che non se ne vedeva la fine. A perdita d'occhio si allungavano file di titaniche colonne tra le quali palpitavano livide stelle di luce gialla. Quei punti luminosi rivelavano profondità sconvolgenti. La principessa Hermontis continuava a tenermi per mano e a salutare con grazia le mummie di sua conoscenza. I miei occhi si andavano abituando a quella penombra crepuscolare e cominciavo a distinguere gli oggetti. Seduti sui loro troni, vidi i re degli inferi, grandi vecchi rinsecchiti, rugosi, incartapecoriti, neri di petrolio e di bitume con il capo coperto di pshent d'oro. Rivestiti di pettorali e di gorgere, cosparsi di pietre preziose, avevano occhi fissi come quelli della sfinge e lunghe barbe imbiancate dalla neve dei secoli. Dietro di loro si allineavano in piedi i sudditi imbalsamati, nelle pose rigide e tese dell'arte egizia, mantenendo per l'eternità gli atteggiamenti prescritti dal codice hieratico. Dietro i sudditi miagolavano, sbattevano le ali e ghignavano i gatti, gli ibis e i coccodrilli dell'epoca, resi ancora più grotteschi dalle loro fasciature. C'erano tutti i faraoni, Cheope, Kefren, Sammetico, Sesostri, Amenofi e tutti i neri dominatori delle piramidi e delle tombe ipogee. Su un palco più elevato sedevano i re Cronos, Xixutro, che visse i tempi del diluvio, e Tubalcain, che lo precedette. La barba del re Xixutro era talmente cresciuta che aveva già fatto sette volte il giro della tavola di granito su cui si appoggiava meditabondo e assonnato. Più lungi, in una nube di polvere, distinsi vagamente attraverso le nebbie dell'eternità ai 72 re preadametici, con i loro 72 popoli scomparsi. Dopo avermi lasciato osservare per qualche minuto quello spettacolo sbalorditivo, la principessa Hermontis mi presentò al faraone suo padre, che con il capo mi fece un cenno pieno di maestà. «Ho ritrovato il mio piede! Ho ritrovato il mio piede!» gridava la principessa battendo le piccole mani per manifestare la sua gioia. «Me l'ha reso questo signore!» Le stirpi di Chemè, le stirpi di Nahasi, tutti i popoli neri, bronzei, ramati, ripeterono in coro. «La principessa Hermontis ha ritrovato il suo piede!» Perfino il sonno lento Xixutro si emozionò. Alzò le pesanti palpebre, si passò le dita fra i baffi e posò su di me uno sguardo carico di secoli. «Per Homs, cane infernale, e per Tmei, figlia del sole e della verità! Ecco un bravo e degno giovane!» disse il faraone, tendendo verso di me lo scettro con un fiore di loto sulla punta. «Che cosa vuoi per ricompensa?» Forte di quell'audacia che è frutto dei sogni in cui nulla pare impossibile, gli chiesi la mano di Hermontis. La mano per il piede mi parve una ricompensa antitetica non priva di gusto. Il faraone sgranò gli occhi di cristallo, sorpreso dal mio scherzo e dalla mia domanda. «Di che paese sei e quanti anni hai?» «Sono francese e ho ventisette anni, venerabile faraone!» «Ventisette anni e vuole sposare la principessa Hermontis che ha trenta secoli!» esclamarono all'unisono i troni e l'assemblea dei popoli. Soltanto Hermontis aveva l'aria di non trovare disdicevole la mia domanda. «Se solo tu avessi duemila anni», riprese il vecchio re, «ti accorderei volentieri la mia principessa. Ma la sproporzione è eccessiva. E poi le nostre figlie hanno bisogno di mariti durevoli, mentre voi non sapete più conservarvi. Degli ultimi che sono stati portati qui non più di quindici secoli fa è rimasto soltanto un pizzico di cenere. Guarda, la mia carne è dura come il basalto, le mie ossa sono barre d'acciaio. Assisterò all'ultimo giorno del mondo con il corpo e con la faccia che avevo da vivo. Mia figlia Hermontis durerà più di una statua di bronzo. Nel frattempo il vento avrà disperso anche l'ultimo granello della tua polvere. E perfino Iside, che seppe ritrovare i pezzi di Osiride non saprebbe come fare per ricomporre il tuo essere. Guarda come sono ancora vigoroso e come reggono bene le mie braccia, disse stringendomi con tale vigore la mano che i miei anelli mi segarono le dita. Mi strinse così forte anzi che mi svegliai e vidi il mio amico Alfred che mi tirava per un braccio e mi scuoteva per farmi alzare. Ma come? Dormiglione incorreggibile! Vuoi che ti porti in mezzo alla strada e ti faccia esplodere un fuoco d'artificio nelle orecchie? È mezzogiorno passato! Non ricordi che avevi promesso di venirmi a prendere per andare a vedere i quadri di Agodò? Mio Dio, non ci pensavo proprio più, risposi vestendomi in fretta. Andiamo, l'invito è lì sulla scrivania. Mi avviai per prenderlo, ma immaginate il mio stupore quando al posto del piede di mummia che avevo comprato il giorno prima scorse la piccola statuina verde che vi aveva messo la principessa Hermontis. Qui finisce Il piede della mummia di Theophile Gaultier. Ti ringrazio infinitamente per aver ascoltato il racconto fino alla fine. Se ti piace il mio modo di narrare e ritieni che la mia voce sia per te una buona compagnia, dimostrami il tuo apprezzamento lasciandomi un like e un commento al quale risponderò con immenso piacere. Intanto ti abbraccio e ti lascio con i cenni biografici, se hai ancora voglia di ascoltare, di Theophile Gaultier. Ciao, a presto, Rosanna Lia. Theophile Gaultier, 1811-1872, fu uno dei principali esponenti del romanticismo francese. La sua concezione letteraria prevedeva l'arte per l'arte. Come teorizzò nella prefazione a uno dei suoi romanzi più celebri, Mademoiselle de Maupin, 1835. L'opera per cui è più famoso, Capitan Fracassa, mescola peraltro nella cornice di un romanzo storici, toni umoristici e veristici. Affascinato dalla magia e dall'esoterismo, scrisse diverse novelle con tematiche soprannaturali, nonché i romanzi brevi Iettatura e Avatar. La caffettiera, un racconto di Theophile Gaultier, voce narrante di Rosanna Lia. Ho visto sotto cupi veli undici stelle, la luna e anche il sole che mi facevano la riverenza, in silenzio, finché è durato il sonno. La visione di Giuseppe. L'anno scorso, insieme a due compagni con i quali condividevo lo studio, Arrigo Coice e Pedrino Borgnoli, fu invitato a passare qualche giorno in una proprietà nel cuore della Normandia. Il tempo, che al momento della partenza prometteva di essere splendido, all'improvviso pensò bene di cambiare, e piove talmente che i sentieri infossati dove camminavamo erano come il letto di un torrente. Sprofondavamo nella melma fino al ginocchio, uno spesso strato di terra grassa si era attaccato alla suola dei nostri stivali, e il suo peso rallentava a tal punto i nostri passi che arrivamo a destinazione un'ora dopo il tramonto. Eravamo esausti, tanto che il nostro ospite, nel vedere gli sforzi che facevamo per soffocare gli sbadigli e tenere gli occhi aperti, appena cenato ci fece accomodare nelle nostre camere. Quando entrai nella mia, che era molto grande, sentii come un brivido di febbre, perché mi parve di penetrare in un mondo nuovo. Effettivamente pareva quasi di essere tornati ai tempi della reggenza, a giudicare dalle sovrapporte di Boucher raffiguranti le quattro stagioni, i mobili sovraccarichi di decorazioni rococò di pessimo gusto e le specchiere pesantemente scolpite. Nulla era stato toccato. La toeletta su cui erano posati portapettini e piumini per la cipria sembrava che fosse servita il giorno prima. Due o tre abiti di colori cangianti e un ventaglio punteggiato di lustrini d'argento era disseminato sul lucido parquet, e con mio grande stupore sul caminetto c'era una tabacchiera di tartaruga, aperta, piena di tabacco ancora fresco. Notai queste cose solo dopo che il domestico ebbe poggiato il candeliere sul comodino e augurato la buonanotte. Confesso che cominciai a tremare come una foglia. Mi spogliai rapidamente, mi infilai al letto e, per farla finita con quegli sciocchi terrori, chiusi subito gli occhi voltandomi verso il muro. Ma non mi fu possibile restare in quella posizione. Il letto si agitava sotto di me come un'onda. Le palpebre mi si riaprivano irresistibilmente. Fui costretto a girarmi e a guardare. Il fuoco del caminetto proiettava nella stanza riflessi rossastri, tanto che si potevano distinguere facilmente i personaggi degli arazzi e i volti dei ritratti appesi alle pareti e anneriti dal fumo. Erano gli antenati del nostro ospite, cavalieri bardati di ferro, consiglieri imparruccati e belle dame dal viso imbellettato e i capelli incipriati che tenevano una rosa in mano. All'improvviso le fiamme si misero a divampare con strana violenza. Un livido bagliore illuminò la camera e io vidi distintamente che quelli che avevo scambiato per meri dipinti erano personaggi reali. Le loro pupille si muovevano scintillando in modo singolare, le loro labbra si aprivano e si chiudevano come se stessero parlando, anche se io sentivo solo il tic-tac della pendola e il sibilare del vento autunnale. Un invincibile terrore si impadronì di me. I capelli mi si drizzarono in testa, i denti mi sbatterono violentemente, un sudore freddo mi inondò da capo a piedi. La pendola batte le undici. La vibrazione dell'ultimo rintocco echeggiò a lungo e quando si fu spenta del tutto. Oh no! Non oso dire quello che accadde. Oltre a non essere creduto, verrei preso per un pazzo. Le candele si accesero da sole. Il mantice, senza essere azionato da nessun essere visibile, si mise a soffiare sul fuoco, ansimando come un vecchio asmatico, mentre le molle attizzavano le braci e la paletta raccoglieva la cenere. Dopodiché una caffettiera si buttò giù dal tavolo su cui era posata e si diresse zoppicando verso il fuoco dove andò a piazzarsi tra i tizzoni. Qualche attimo dopo cominciarono a muoversi le poltrone che, agitando in maniera stupefacente le gambe a torciglioni, andarono a sistemarsi intorno al caminetto. Non sapevo che cosa pensare di quello che stavo vedendo, ma quello che vidi dopo fu ancora più straordinario. Uno dei ritratti, il più antico di tutti, quello di un grosso personaggio paffuto dalla barba grigia che assomigliava come una goccia d'acqua a quello che per me è sempre stato il vecchio John Falstaff, con grandi smorfie tirò fuori la testa dalla cornice, e dopo molti sforzi per far passare anche le spalle e il ventre tondeggiante, cadde pesantemente a terra. Appena ripreso fiato, tirò fuori dalla tasca del farsetto una chiave incredibilmente piccola. Vi soffiò dentro per assicurarsi che il foro fosse ben pulito e l'applicò successivamente a tutte le cornici. E tutte le cornici si allargarono in modo da lasciar passare facilmente le figure che racchiudevano. Piccoli abbati paffuti, vecchie dame pallide e segaligne, magistrati dall'aria severa avvolti in grandi toghe nere, damerini con lucide calze, brache di lane e seta, la punta della spada verso l'alto. Lo spettacolo di tutti quei personaggi era così bizzarro che nonostante lo spavento non potei fare a meno di ridere. I rispettabili signori si sedettero e la caffettiera saltò con leggerezza sul tavolo. Presero il caffè in tazzine giapponesi bianche e blu che accorsero spontaneamente da un secretà munite di una zolletta di zucchero e di un cucchiaino d'argento. Finito il caffè, tazzine, caffettiere e cucchiaini scomparvero contemporaneamente ed ebbe inizio la conversazione, certamente la più curiosa che abbia mai udito, giacché nel parlare nessuno di questi strani conversatori guardava l'altro. Tutti gli occhi erano fissi sulla pendola. Nemmeno io riuscivo a distoglierne lo sguardo e a non seguire la lancetta che impercettibilmente avanzava verso mezzanotte. Finalmente scoccò la mezzanotte e sentì una voce dal timbro identico a quello della pendola che disse «E ora, bisogna ballare!». Tutti i presenti si alzarono, le poltrone arretrarono spontaneamente e a quel punto ogni cavaliere prese la mano di una dama mentre la stessa voce diceva «Orsù, signori dell'orchestra, iniziate!». Ho dimenticato di dire che l'arazzo rappresentava da un lato un concerto italiano e dall'altro una caccia al cervo con diversi balletti che suonavano il corno. Bracchieri e musicisti che fino a quel momento non avevano fatto alcun gesto chinarono il capo in segno di assenso. Il maestro alzò la bacchetta e ai due lati della sala si levò una melodia vivace e ballabile. Dapprima si danzò il minuetto, ma le rapide note della partitura eseguita dai musicisti mal si accordavano con le profonde riverenze, tanto che, dopo pochi minuti, ogni coppia di ballerini si mise a piroettare come una trottola tedesca. Gli abiti di seta delle donne, fruscianti nel vortice della danza, facevano un rumore particolare che evocava uno stormo di piccioni in volo. L'aria che vi si ingolfava li gonfiava in maniera tale da farli sembrare campane oscillanti. L'archetto dei virtuosi passava così rapidamente sulle corde da farne sprizzare scintille elettriche. Le dita dei flautisti si alzavano e si abbassavano quasi fossero state d'argento vivo. Le guance dei bracchieri erano gonfie come palloni, con conseguente diluvio di note e di trilli così accelerati e di gamme ascendenti e discendenti così ingarbugliate, così inconcepibili, che neanche i diavoli avrebbero potuto seguire per due minuti un simile ritmo. Era quindi penoso vedere tutti gli sforzi di quei ballerini per tenere dietro alla cadenza. Saltavano, facevano capriole, ronde, jeté, entreschat, alti treppiedi, sicché il sudore, calando dalla fronte sugli occhi, portava via fintinei e belletto. Ma per quanto facessero, l'orchestra era sempre in anticipo di tre o quattro note. Quando la pendola suonò l'una, si fermarono, e a quel punto notai un particolare che mi era sfuggito. C'era una donna che non ballava. Era seduta in una poltrona accanto al caminetto e sembrava del tutto estranea a ciò che le stava accadendo intorno. Ma neanche in sogno i miei occhi avevano visto qualcosa di così perfetto, una pelle di un candore abbagliante, capelli biondo cenere, lunghe ciglia e pupille azzurre così chiare e trasparenti che attraverso di esse vedevo distintamente la sua anima come un sasso sul fondo di un ruscello. E sentì che se mai mi fosse capitato di amare, non avrei potuto amare che lei. Mi precipitai giù dal letto, dal quale fino a quel momento non ero riuscito a muovermi, e mi diressi verso di lei, spinto da qualcosa che agiva in me senza che fossi in grado di rendermene conto. Mi ritrovai ai suoi ginocchi, una sua mano tra le mie, a conversare con lei come se l'avessi conosciuta da vent'anni. Ma per un prodigio davvero strano, mentre le parlavo la mia testa oscillava accompagnando la musica che aveva seguitato a suonare. E benché fossi felicissimo di potermi intrattenere con una persona così bella. I miei piedi ardevano dalla voglia di ballare con lei, senza che trovassi il coraggio di proporglielo. Probabilmente lei capì quel che volevo, poiché, sollevando verso il quadrante dell'orologio la mano che non tenevo tra le mie, mi disse quando la lancetta sarà su quel punto, vedremo, mio caro Theodore. Non so come fu, ma non restai affatto sorpreso nel sentirmi chiamare per nome e seguitammo a chiacchierare. Finalmente suonò l'ora indicata e nella camera vibrò ancora la voce dal timbro d'argento. Angela può danzare con il signore se le fa piacere, ma lei sa che cosa accadrà. Non importa, rispose Angela con tono imbronciato, circondandomi con il suo braccio eburneo. Prestissimo, gridò la voce. Cominciamo allora a ballare il waltzer. Il seno della fanciulla toccava il mio petto, la sua guancia vellutata sfiorava la mia e la mia bocca respirava il suo alito suave. In vita mia non avevo mai provato una simile emozione. I nervi mi vibravano come molle d'acciaio, il sangue mi scorreva nelle arterie come un torrente di lava e mi sentivo battere il cuore come un orologio quando lo si accosta all'orecchio. Tuttavia il mio non era affatto uno stato doloroso. Mi inondava una gioia indicibile e sarei voluto rimanere per sempre così. La cosa straordinaria era che non dovevamo fare nessuno sforzo per seguire l'orchestra, sebbene avesse triplicato il ritmo. I presenti, stupiti dalla nostra agilità, gridavano bravi e applaudivano con tutte le forze, ma le loro mani non emettevano alcun suono. Angela, che fino a quel momento aveva ballato con un'energia e una precisione sorprendenti, di colpo parve stanca. Mi pesava sulla spalla come se le gambe le avessero ceduto. I suoi piedini, che un minuto prima sfioravano il pavimento, ora se ne staccavano a fatica, quasi fossero trattenuti da una palla di piombo. Angela, lei è stanca, le dissi. Riposiamoci. Volentieri, rispose detergendosi la fronte con un fazzoletto. Ma mentre noi ballavamo, tutti gli altri si sono seduti. Non c'è più che una poltrona e noi siamo in due. Che importa, mio bell'angelo, la prenderò sulle ginocchia. Senza fare la minima obiezione, Angela si sedette circondandomi con le braccia come fossero una bianca sciarpa, annidando la testa nel mio petto per riscaldarsi un poco, giacché era diventata fredda come il marmo. Non so per quanto tempo restammo in quella posizione, poiché la contemplazione di quella misteriosa e fantastica creatura assorbiva tutti i miei sensi. Avevo perso la nozione dell'ora e del luogo. Il mondo reale per me non esisteva più, ed ogni mio legame con esso si era spezzato. La mia anima, liberata dalla sua prigione di fango, si librava nel vago e nell'infinito. Capivo ciò che nessun uomo può capire, giacché i pensieri di Angela mi si rivelavano senza che lei avesse bisogno di parlare. L'anima le risplendeva infatti nel corpo come una lampada di alabastro, e i raggi emanati dal suo petto trafiggevano il mio da parte a parte. La lodo la cantò, e un pallido chiarore folleggiò sulle tende. Appena Angela lo scorse, si alzò precipitosamente, mi fece un cenno d'addio, e dopo qualche passo cadde lunga distesa emettendo un grido. In preda allo spavento mi precipitai per rialzarla. Solo a pensarci mi si agghiaccia il sangue. Tutto quel che trovai fu la caffettiera ridotta in mille pezzi. A quella vista, convinto di essere stato vittima di una qualche diabolica illusione, fui colto da un terrore tale che svenni. Quando ripresi conoscenza ero nel mio letto, e accanto a me c'erano Arrigo Coice e Pedrino Borgnoli. Appena ebbi aperto gli occhi, Arrigo esclamò. Era tempo, è quasi un'ora che ti sto sfregando le tempie con l'acqua di colonia. Che diavolo hai fatto stanotte? Stamani, vedendo che non scendevi, sono entrato in camera tua, e ti ho trovato lungo, disteso per terra, in abito di gala, che stringevi tra le braccia un pezzo di porcellana rotta, come se si fosse trattato di una bella fanciulla. Per Dio, è l'abito di nozze di mio nonno, disse l'altro, sollevando una delle falde di seta rosa arabescata di verde. Ecco i bottoni di strass e di filigrana che ci vantava tanto. Theodore l'avrà scovato da qualche parte e se lo sarà messo per divertirsi. Ma perché poi ti sei sentito male? Soggiunse Borgnoli. E una cosa prevedibile? in un'amichetta dalle spalle bianche. Le si slaccia il corsetto, le si tolgono le collane, la sciarpa, ed ecco una bella occasione per fare un po' di scena. È stato solo un mancamento, a volte mi capita, risposi asciutto. Mi alzai e mi tolsi il ridicolo abbigliamento, poi andammo a pranzo. I miei compagni mangiarono molto e bevero anche di più. Io invece non toccai quasi cibo, distratto dal ricordo delle strane cose che erano accadute. Finito il pranzo, visto che pioveva a dirotto, non potemmo uscire e ciascuno si occupò come poté. Borgnoli tamburellò marce guerriere sui vetri. Arrigo e l'ospite fecero una partita d'ama, mentre io tirai fuori dal mio album un foglio di cartaveline e mi misi a disegnare. Le linee quasi impercettibili, tracciate senza intenzione dalla mia matita, finirono con il rappresentare in modo mirabilmente preciso la caffettiera che aveva avuto una parte così importante nelle scene della notte. È incredibile come questa testa assomigli a mia sorella Angela, disse l'ospite che dopo aver terminato la partita si era messo alle mie spalle e mi guardava disegnare. In effetti, quella che poco prima mi era sembrata una caffettiera era in realtà il profilo dolce e malinconico di Angela. Per tutti i santi del paradiso! È morta o è viva? Esclamai con voce tremante come se la mia vita fosse dipesa dalla sua risposta. È morta due anni fa di una congestione polmonare dopo una festa da ballo. Ahimè! risposi dolorosamente e trattenendo una lacrima rimisi il foglio nell'album. Avevo capito che per me non ci sarebbe più stata felicità sulla terra. Qui finisce la caffettiera di Théophile Gautier. Se questo racconto è stato di tuo gradimento e trovi che la mia voce sia per te una piacevole compagnia, per favore lasciami un like e un commento. Io ti risponderò con immenso piacere. Ci sentiamo presto con un nuovo bellissimo audio racconto. Ciao da Rosanna Lia! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.